Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato Emo, tu bravi, bravi Immaginavamo che l'avrebbero buttata in politica anche al festival di Sanremo Buonasera, ben ritrovati, sono le 21 e 20 Siamo in pochi a non vedere Sanremo I nostri ospiti, il regista, il tecnico No, sono molti di più Sono molti di più quelli che guardano anche altri emittenti E poi fanno zapping e saltellano da un canale all'altro nei prossimi giorni Perché Sanremo è Sanremo, come si usa a dire E stasera è partito in una maniera piuttosto singolare Amadeus in conferenza stampa, una provocazione di Enrico Lucci E ha cantato con Marco Mengoni bella ciao Ci sono già polemiche, vi avverto C'è già una polemica in corso Perché ho sentito dire in una radio locale E devo dire che non ha tutti i torti Chi ha detto che l'assessore Donazzan per aver cantato faccetta nera Era stata insultata, redarguita, social Di tutto e di più Invece in questo caso silenzio assordante Nessuno che per ora abbia ancora fatto delle critiche Ma arriveranno, arriveranno di sicuro Perché questo è il clima in cui siamo ormai abituati a vivere Di contrasti, di tensioni Ne parleremo stasera in questa puntata di Focus Intanto vi presento gli ospiti Il sindaco di Isola Vicentina Francesco Gonzo Sindaco, grazie, buonasera Ben arrivato Per la RSU Electrolux Bruno Gostain Breda Buonasera Breda, grazie molte E tra l'altro notizie non buone Per quanto riguarda questa grande azienda Con stabilimenti a Susagana e a Porcina E parleremo, grazie a Giorgio Denardi Imprenditore, consigliere comunale a Treviso con la lista Denardi Buonasera, grazie Grazie dottore, bentornato L'avvocato Fabio Crea per Fratelli d'Italia Buonasera, buonasera Grazie molte Il sindaco di Conigliano Fabio Chies Sindaco Buonasera, buonasera a tutti Grazie molte E l'assessore al Comune di Venezia per le politiche educative Laura Besio Buonasera direttore, buonasera a tutti Grazie molte, bentornata Quindi tanta carne al fuoco stasera Ovviamente Sanremo è anche importante dal punto di vista sociale Perché in un momento di grande tensione, di difficoltà E questo non è il primo È una valvola di sfogo È una specie di tabernacolo che nessuno può o vuole profanare Evidentemente dove ci si concentra per una settimana Dimenticando un po' tutti i dispiaceri Questa è un po' la ricetta di Sanremo E la fortuna di chi lo organizza e di chi partecipa Però buttiamola un po' in polemica Buttiamo un po' di benzina sul fuoco Avvocato Crea Era il caso di intonare bella ciao in conferenza stampa In un momento in cui appunto tutto viene strumentalizzato Viene utilizzato anche in vista delle elezioni La risposta è no evidentemente Diciamo che per quanto mi riguarda E' quella che è la mia impressione Sono state sostanzialmente due macchiette Non c'era certamente la necessità di politicizzare l'evento E' un evento popolare che Avrei preferito alla domanda di Enrico Luci Siete antifascisti, no? Allora cantate l'inno nazionale Ma probabilmente certa gente non lo conosce neanche Hanno bisogno di politicizzare qualsiasi cosa Contenti loro Mi pare che non sposti niente Anche perché mi pare che ci sia anche un po' di ignoranza Perché bella ciao non è una canzone partigiana E' una canzone che probabilmente è nata molto dopo I partigiani cantavano un'altra canzone Perché fischia il vento o qualcosa del genere Che è una canzone sovietica Quindi anche da questo punto di vista Riescono a sbagliare anche la rievocazione storica E' certamente un inno politicizzato In questo senso l'hanno utilizzato Sono caduti in questa provocazione Forse anche volontariamente Forse era anche preparata Mi pare che il contesto non necessitasse di questa strumentalizzazione Andiamo avanti così Contenti loro Mi pare che abbiano fatto una figura veramente da macchiette Ecco, Assessore Parliamo, parleremo e parliamo Quasi tutte le sere di giovani Purtroppo protagonisti di vicende Che non vorremmo raccontare Incidenti stradali Risse tra baby gang E quant'altro Lei trova che Sanremo sia Così un evento terapeutico Nazionale Nel senso che proprio E' una settimana In cui forse Si perdono di vista Tutti i problemi E ci si In qualche modo Si cerca di rimuovere i problemi Ecco Occupandosi di Quelle che una volta si chiamavano canzonette Adesso non le chiamano più canzonette Ma sempre di Di musica leggera si tratta Beh sì Sicuramente Noi dobbiamo recuperare il Sanremo Come diceva lei giustamente Del Sanremo E Sanremo Cioè Un evento che ha segnato la storia proprio La nostra tradizione culturale La cultura però Di quelle canzoni Che hanno dei contenuti Io di Sanremo Degli ultimi Sanremo Onestamente ricordo solamente Alcuni siparietti Alcune performance Decisamente discutibili Anche a livello di educazione Se deve essere un evento Dichiarato come eccellenza Anche del nostro territorio Da esportare Deve essere un evento Sotto tutti i riflettori Possibile perché Venga imitato Perché possa essere guardato Anche dai ragazzi stessi Quindi laddove ci sono anche Degli esempi discutibili Parlo degli influencer Con alcuni slogan molto particolari Persone che urlano Questo è il contesto storico Ahimè dove ci inseriamo oggi Sicuramente c'è molta fatica E c'è molto anche da lavorare Anche perché i giovani Spesso e volentieri Inseguono e rincorrono L'emotività del momento Rincorrono i social Rincorrono questi esempi Spesso e volentieri Non come dire Esattamente di buon gusto E come famiglia anzitutto E poi come scuola E come tutta la comunità educante Noi dobbiamo Senz'altro andare a costruire Dei tasselli Che stanno venendo a mancare È vero È vero direttore In effetti manca proprio Anzitutto la prima agenzia educativa Che viene meno in molte occasioni Che è la famiglia E spesso e volentieri La scuola tende a sopperire A questa mancanza E però lo fa male Perché chiaramente Quando ognuno di noi Non fa Non realizza il suo giusto contributo All'interno della società È evidente Che è tutta una rincorsa A E i giovani d'oggi Invece devono recuperare Esattamente quei valori Che provengono anche Dalla cultura Che è il canto Che sono le nostre tradizioni Però sempre nell'alveo Insomma di quello Che è il buon gusto Per quanto riguarda Questo inciso Che è avvenuto proprio In apertura Beh possiamo dire Semplicemente Che comunque Come è stato detto Autorevolmente Da chi mi ha preceduto Si tratta di una canzone Che appartiene alla storia Che non è necessariamente Imputabile a un partito Piuttosto che a un altro E anzi io a gamba tesa Ne approfitterei anche Per ricordare una cosa Che è abbastanza spiacevole Al giorno d'oggi Che determinati temi Siano sempre e solo Sentiti come il rettaggio Di un certo orientamento Che guarda caso È sempre più di là Che di qua Non si capisce Perché chi è Dalla parte del centro Io per esempio Sono un concoraggio Italia Centro del centro-destra Bisogna sempre difendersi Rispetto a determinate tematiche Che io credo Siano assolutamente Trasversali Cioè condanniamo per esempio Tutti la violenza In generale E tutti Ci auguriamo E ci auspichiamo Che si possa lavorare Per la pace La cooperazione Il dialogo In tutti i campi Grazie Assessore Per ora Poi ovviamente Ci torniamo È un paese Poi titoleremo È un paese Con i nervi A fior di pelle Perché ci sono tensioni Ci sono proteste Gli agricoltori italiani Partecipano Alla grande Protesta Gli agricoltori Che si erano riuniti Radunati A Bruxelles Mettendo Bruxelles A ferro e fuoco Proprio protestando Davanti Al Parlamento Europeo E poi Ci sono altri Altri Eventi Che danno Conto di una società Che veramente Sta perdendo un po' Il senso della misura Con Fleximan A cui si tagliano Non solo si tagliano I pali Col flessibile Degli autovelox Ma poi c'è C'è anche L'inneggiamento A questi A questi Uomini Che Fino a prova contraria Stanno commettendo Dei reati Quindi Si parla del ritorno Dei forconi Insomma Ne parleremo stasera Di una società Piuttosto Malata Che ha un po' Perso La bussola Probabilmente Vediamo Vediamo proprio Su questo Stamattina a Venezia Ne hanno parlato Veras Lepoi Che è la presidente Degli psicologi Psicoterapeuti italiani E l'assessore Elena Donazzan Proprio su questa società Che sta Sta perdendo un po' Il lume della ragione Vediamo I femminicidi Di Giulia Cecchettin 22 anni appena E Vanessa Ballan 26 anni Incinta Al terzo mese E la professoressa Vera Slepoi Nota psicoterapeuta E scrittrice A spiegarne Le dinamiche Psicologiche Scavando Nella mente Dei rispettivi assassini Il femminicidio È il risultato finale Generalmente Di un mondo Dove La relazione Affettiva Da un lato Vedi il caso Cecchettin O la relazione Istituzionale Come il matrimonio Ad esempio Dove poi ci sono I figli Eccetera Quando c'è Una perdita Di questo contenitore La morte L'eliminazione Dell'intero Nucleo Molte volte È una via Paradossalmente Salvifica Salvifica Per l'assassino Perché eliminando La persona Che gli ha causato Il problema Elimina Il dolore Generato dal problema Stesso Spiega Sempre La Slepoi Le incapacità Di gestire La fine Ad esempio Di una relazione Le conflittualità La gestione Anche Delle separazioni Che molto spesso Avviene in modo Superficiale Senza tener conto Di quelle che sono Le conseguenze Quindi Le baby gang Il bullismo Anche a scuola Gli stupri Le rapine Tra i temi Affrontati nel corso Del dibattito Dal titolo Comunità Educante A lezione Di affettività Incontro Tenutesi a Venezia Dalla professoressa Slepoi Con amministratori E i primi cittadini Veneti Per tentare Di arginare Possibilmente Prevenire I dilaganti episodi Criminali Atti di bullismo Messi in atto Dai ragazzini Ragazzine Spesso Anche minorenni A tal fine Si deve creare Una rete Allargata Tra la scuola E la famiglia Così L'assessore Regionale All'istruzione Elena Donazzan C'è una facile soluzione C'è la consapevolezza C'è la presa Di coscienza C'è che ciascuno Rappresentante Delle istituzioni Io per prima In quanto assessore All'istruzione Devo ottenere Una posizione Non è giudicante È di evidenza Del problema Girare il volto Dall'altra parte Dire che sono fenomeni Isolati Dire che non vi è Un problema Di consapevolezza Cioè vi è un problema Di consapevolezza Non vi è un problema Di realizzazione Della gravità Questo è compito Delle istituzioni Altrimenti Cominciamo ad accettare Che la società sia così E sia un fatto ineluttabile Allora Dottor Denari Questo insomma Questo clima Vale molto Per le imprese Abbiamo visto L'attacco della Francia Alla Stellantis Quindi diciamo L'attacco Di Macron Personalmente Alla Fiat Vorrebbero Fonderla Con la Con la Renault E poi Abbiamo visto Con la questione Gli agricoltori Io personalmente Trovo che Tra tutte le Le marce indietro Che avrebbe potuto fare L'Europa Forse quella Di ritirare Il provvedimento Che obbligava Gli agricoltori A tagliare Dal 50% L'uso Dei pesticidi Forse Sarebbe stato meglio Per esempio Fare in modo Che potessero avere Diciamo Per cui non so Per ora Si è fatto Marcia indietro Sui pesticidi Ma anche qui È sempre Un compromesso È sempre Fare dei passi In avanti E poi tornare Tornare indietro Cosa Cosa le pensa È un momento Lei è un imprenditore Veneto Quindi La situazione economica Dell'Italia Purtroppo Da 20 Forse anche più Anni È del tutto Stagnante Abbiamo un problema Serio Relativamente Agli stipendi E diciamo Alla situazione economica In genere Anche delle imprese Perché Sono pochi campioni Che riescono A emergere A livello internazionale C'è un sistema economico Molto dinamico Ma che vive Molto di Quotidianità Di Di tattica E non c'è Una politica industriale Ne abbiamo già parlato E Soffriamo Inanismo Perché ci sono Tantissime piccole aziende Che fanno fatica Ad essere significative A livello internazionale E Questo comporta Che alla fine Si fa La lotta dei poveri Per cui Si va al ribasso Cercando Di Avere sempre Dei prezzi più bassi Dal Dal retail All'industria Al produttore Al singolo produttore Nel campo Per esempio Del primario Dell'agricoltura Si va sempre Peggio Sempre A peggiorare La condizione economica Anziché Lavorare Sulla catena del valore Noi abbiamo Tantissime eccellenze Straordinarie Che purtroppo Non riusciamo A valorizzare In modo adeguato Per cui È una catena Viziosa Che continua A peggiorare Tira giù Sempre di più Il valore Che l'Italia E il paese Riesce a produrre Quindi la produttività Scende Il valore aggiunto Scende E quindi Siamo presi Da un vortice Dove si va Sempre più giù E invece Avremo una potenzialità Straordinaria Che in certi casi Riesce a emergere Ma Purtroppo Sempre in situazioni Piuttosto piccole Dove c'è una piccola Media impresa Che riesce A fare delle cose Interessanti Anche a livello internazionale Ma I veri soldi La vera ricchezza È da altre parti Tra le prime Cento aziende Nel mondo Forse ce n'è una Sì e no Leni Che italiana Lo stesso A livello europeo Siamo Veramente Troppo piccoli Troppo insignificanti Per Poter Dare una svolta A questa condizione E Poi Si Aggiunge A questo Per esempio Nel caso Della contestazione Degli agricoltori La necessità Di un cambiamento Che però Ha bisogno Di tempi lunghi E si ripercuote Invece Sui tempi brevi Della necessità Di Sopravvivenza E di I fabbisogni Dell'attività economica Degli agricoltori Per cui È Secondo me Giustissimo Spingere Verso Una Una situazione Che deve essere Meno contaminata Dai pesticidi Deve essere Meno Problematica Dal punto di vista Ambientale Quindi Tutti i provvedimenti Che l'Europa Ci sta In qualche modo Imponendo Se non ci fosse L'Europa A spingerci Non li faremo mai E quindi Saremo In una condizione Ambientale E di inquinamento E di qualità Della vita Insostenibile Già Lo vediamo In questi giorni Nel nostro territorio Non si respira Treviso Come Pechino Oggi Hanno titolato I giornali Non so se sia proprio così Ma insomma C'è molto inquinamento Purtroppo Poi tagliamo Quei pochi di alberi Che ci sono Costruiamo Di parcheggi In centro Giganteschi E continuiamo A considerare La città Come Al servizio Delle auto E questo Non aiuta Quindi Stavo dicendo È giusto Che l'Europa Ci spinga A determinati Miglioramenti Delle condizioni Ambientali Ma deve essere Anche ascoltato E portato avanti Un bilanciamento Rispetto Alle conseguenze Di questi cambiamenti Perché altrimenti È chiaro Che Succede Quello che sta succedendo Quindi deve essere La transizione Deve essere guidata In modo Molto Intelligente E ascoltando Molto bene Le parti in causa Cosa che Mi sembra Che si stia facendo Un po' poco Allora Il centro-destra In particolare Ha preso Le difese Degli Agricoltori Conte Attacca Salvini Dicendo Attacca il centro-destra Dicendo È colpa vostra Se oggi Con il taglio Dell'IRPEF Siete in questa Con l'aumento Dell'IRPEF Siete in questa Sono in questa Condizione Gli agricoltori Sentiamo Stiamo sfiorando Il ridicolo Fratelli d'Italia E Lega Stanno litigando Individuando Chi è responsabile Delle nuove tasse Sugli agricoltori E questo con i trattori Che stanno per strada Ma è molto semplice La responsabilità E la loro Sia della Lega E sia di Fratelli d'Italia Perché loro Hanno ristabilito L'IRPEF E gli agricoltori Hanno abbassato Le decontribuzioni Per i giovani Imprenditori agricoli E loro sono Che sono intervenuti Anche a smantellare Completamente In credit Imposta Di transizione 4.0 Le nuove tasse Quindi sono imputabili Direttamente al Presidente Del Consiglio Giorgio Meloni E al Ministro Del Tesoro Giorgetti Lega E Fratelli d'Italia Non andassero a cercare Colpevoli altrove L'avevamo detto Questa è una legge Di bilancio Che crea nuove tasse E adesso sono gli agricoltori Domani saranno Le persone con disabilità Dopodomani Sono i pensionati Tutti si accorgeranno Tutti gli imprenditori Con la nuova tassa Anche sul Per quanto riguarda Gli obblighi assicurativi Per rischi catastrofali Tutte le categorie Tutte le famiglie Tutti gli imprenditori Si accorgeranno Progressivamente Delle nuove tasse E dei nuovi tagli Allora Sindaco Si usa dire Si sente dire In questi giorni Ma in fondo È una protesta Che non viene Particolarmente Dal Veneto Perché il Veneto Ha la fortuna Di avere il grande Baccino delle risorse Insomma Del vitivinicolo No? Le bollicine Eccetera Cosa ne pensa? Lei che riscontri ha Diciamo Di queste Di queste proteste Si sono fondate Ci sono i cittadini Ci sono i cittadini Che applaudono I trattori Che sono andati Verso Roma Ma sono già migliaia A Roma Quindi ci sarà Credo Fino a settimana Proprio Un raduno Nazionale Sarà una città Intil Come è già successo A Bruxelles Sicuramente Sicuramente Noi abbiamo La fortuna Di avere Come diceva Lei direttore Un bacino Di risorse agricole Che fanno Soprattutto riferimento Al vitivinicolo E qui In crisi Non ce n'è Anzi Ma non è solo Una fortuna Penso che sia Anche un merito Di tutti coloro Che nel tempo Sono riusciti A modellare Le nostre colline Che sono diventate Patrimonio Dell'umanità E al tempo stesso Creare anche Un prodotto Unico al mondo D'altro canto Però ritengo Che se Gli agricoltori Scendono in piazza Sicuramente Gli agricoltori Non sono gente Che ama scendere in piazza Sono gente Che ama lavorare Nei campi Che tra l'altro È un lavoro duro Spesso poco remunerato E anche poco valorizzato Perché siamo Una società Nella quale Si tende A valorizzare Altri tipi di lavori E quando invece Si parla Del lavoro agricolo Del lavoro della terra Che sarebbe La madre di tutti i lavori Ci accorgiamo Che questo Venga svilito Anche a livello mediatico Ritengo che Le proteste Siano sacrosante Perché non è possibile Pensare Che degli agricoltori Vengano pagati Per non lavorare terreno Ma per lasciarlo incolto Penso che Gli agricoltori Abbano voglia di tutto Ripeto Forché di scendere in piazza Per cui L'Europa dovrebbe Cambiare passo Da questo punto di vista Mi dispiace Anche sentire Le dichiarazioni di Conte Perché ritengo Che uno Stato Come quello italiano Dovrebbe Se uno Stato serio Fare sistema E non dividersi Anche nelle vicende Più importanti Di là dei colori politici Non siamo mai riusciti A andare in Europa Ad imporre le nostre linee Abbiamo sempre subito Le linee dell'Europa Io penso che un paese serio Sugli argomenti importanti Si debba trovare unito Deba andare a portare Le proprie istanze in Europa E farle valere Ecco Questa è una delle cose Che mi è sempre dispiaciuta Della politica italiana Ripeto A 360 gradi Non vedere che si riesca A fare sistema in Europa Rispetto a determinate dinamiche Nelle quali dovremmo Dire la nostra E dovremmo anche sostenere Gli agricoltori Che oggi vanno in piazza Stanno sfilando Sono a Rovigo C'è anche un Ricordiamo Che abbiamo rischiato Di svilire Alcuni prodotti Made in Italy Come ne siamo riusciti A sostenerli E ripeto Questa è una battaglia Di tutti Non è una battaglia Né della destra Né della sinistra Dovrebbe essere Una battaglia Di un paese civile Che sa benissimo Qual è il proprio ruolo Anche a livello internazionale E deve difendere Prodotti che sono unici Al mondo Poi volevo tornare Anche velocemente Su Amadeus Perché penso Che quello che si è detto prima Sia particolarmente antipatico Noi abbiamo Festia di Sanremo Che è un prodotto Che esportiamo In tutto il mondo Che è una delle vetrine Dell'Italia E anche Un programma Che a livello nazionale Unisce tutti gli italiani E vedere Come ci si presti Magari per aumentare L'audience Perché tante volte Queste polemiche Non giovano Né alla destra Né alla sinistra Giovano solamente Ad aumentare un po' L'audience E è vergognoso Da parte Di chi percepisce Determinati stipendi Perché dobbiamo ricordare Poi ne attacchiamo Sempre i politici Noi sindaci Forse non siamo Quelli che percepiscono Gli stipendi più lauti Però io ho sempre difeso Chi fa il proprio lavoro E lo fa bene Mi dispiace vedere Chi invece percepisce Stipendi Che sono dieci volte Quelli dei politici Va in televisione E poi si prestano E poi si prestano Determinate cose È assolutamente Inaccettabile Io lo dico A 360 gradi Queste cose non mi piacciono Perché le persone serie Lavorano Fanno proprio il lavoro Lo fanno al meglio E mi fa sorridere Solamente che queste cose Più le fanno Più portano voti Dall'altra parte A proposito Di scontri È successo Un fatto gravissimo A Vicenza Quando i centri sociali Hanno sfilato Compatti Verso la fiera di Vicenza Per cacciare Gli imprenditori israeliani Cioè qualcosa Che fa pensare A logiche Proprio di dittature I nazisti Cacciavano gli ebrei Dai loro posti di lavoro E dalle loro case Beh hanno marciato Si sono scontrati Inevitabilmente Con la polizia Ci sono stati feriti Contusi davvero Scene Da anni Da anni Di piombo Oggi Il comune È in difficoltà Perché centrodestra La minoranza Chiede Che vengano Revocati Gli spazi Al cosiddetto Bocciodromo Che è la zona Occupata Dai centri sociali L'avvocatura Si è espressa Per un no A questo provvedimento Sentiamo Servizio di Carlo Alberto Inghilleri Bomba politica A orologeria E puntualmente esplosa Flashback 20 gennaio Vicenza Il corteo anti-Israele Esce dal tragitto autorizzato E alcuni antagonisti Dei centri sociali Entrano in collisione Con le forze dell'ordine Poche ore dopo Il centrodestra Chiede al sindaco Di revocare La concessione Della palazzina comunale Agli attivisti Delle associazioni Ospitate all'ex Bocciodromo Accusati di aver organizzato La manifestazione Che poi è degenerata In violenza Il sindaco Affida la questione All'avvocatura civica Che poche ore fa Annuncia il suo parere Che recita letteralmente A oggi Non risulta Pervenuta in comune Alcuna segnalazione Dagli organi di polizia Nei confronti Di nessuna Delle associazioni Destinatarie Della convenzione L'avvio Del procedimento Di revoca Dovrebbe invece Trovare il suo fondamento In episodi Che al momento Sono al vaglio Delle autorità giudiziarie Dice però anche Il parere Della avvocatura civica Che qualora Nelle prossime settimane O nei prossimi mesi Dovessero arrivare Da parte della questura E di chi sta Indagando Qualsiasi segnalazione O elemento Che vada a toccare Gli elementi Inseriti nella convenzione E quindi Che porti alla revoca Verrà immediatamente Riconsiderato E quindi Porterebbe Alla revoca Della concessione Il sindaco Ha deciso Di trincerarsi Dietro la parte amministrativa In cui ci vuole Una volontà politica chiara La presa di distanza Dagli antagonisti Da una parte Della sua maggioranza Che vi è vicina Ma soprattutto La revoca Della concessione E prima di tutto Una volontà politica Questa manifestazione È partita dal centro sociale Bocciodono È una correlazione Fattuale Oggettiva Si tratta solo Di decidere Il sindaco Oggi Ha deciso Di non decidere E così Esplode la guerra In consiglio comunale Il centrodestra Pretende dal sindaco Una scelta politica Mentre Giacomo Possamai Assume una posizione Tecnica Intanto proprio Il bocciodromo Sui social Per il 13 febbraio Annuncia un nuovo incontro Nella palazzina Concessa dal comune Per organizzare Due grandi giornate Di mobilitazione nazionale Contro le guerre E per la Palestina E all'orizzonte C'è un'altra sfida Quella dell'alta velocità Un'opera A cui gli attivisti Si oppongono Come dimostra Il sit-in Che l'8 luglio Ha bloccato Ponte Alto Si stanno preparando A una stagione Contro la TAV Con l'invito A tutti i centri sociali Del nord Italia Compresi quelli Della Valsusa A venire a manifestare Contro la TAV A Vicenza Un atto grave Sul quale Non si accettano I comportamenti E le condotte Da parte del sindaco Possamai Noi insisteremo Con grande volontà politica A revocare Gli spazi Di via Alessandro Rossi Perché c'è la correlazione Fattuale e oggettiva Ma soprattutto L'esigenza politica Di dare una risposta Alla città Agli imprenditori E ai vicentini Allora con Bruno Augustin Breda Parleremo Dell'Electrum Tra pochissimo Però volevo chiederle Breda Se in questo clima Con un governo Di centro-destra Con la premier Meloni Con questa contrapposizione Molto forte Con per esempio La RAI Dice Adesso bisogna chiamarla Tele Meloni Una volta si chiamava Tele Kabul Adesso sarebbe diventato Una televisione nazionale Di destra Se in questo clima Anche nelle imprese C'è il rischio Che possano Eserci quei germi Da cui Si possa tornare Purtroppo Dico Le tensioni Agli scontri Dei conflitti Che abbiamo visto Negli anni Negli anni di piome Negli anni della contestazione Cosa ne pensi? Ma io penso Che non sia una questione Di chi governa In questo momento Che produce La tensione La tensione È prodotta Dalle condizioni Concrete Che vivono Le persone E le condizioni Concrete Che vivono Le persone Purtroppo Per la crisi Che ha colpito Il nostro paese Attraverso anche L'iperinflazione O l'inflazione alta Chiamiamola come vogliamo Che ha battuto Nettamente Il potere Il potere D'acquisto Di ampie Fasce Di lavoratori Ha prodotto Un impoverimento Che sta creando Questo malessere Evidente Nella società Nelle fasce Più deboli Della società Quando dico deboli Intendo deboli Economicamente Ma anche socialmente Di una società Che è anche Impoverita Dal punto di vista Delle prospettive Perché è vero Che il lavoro È aumentato La quantità Di persone Che lavorano Sono aumentate Ma sono aumentate Ed è aumentato Diciamo La precarietà E si è ridotto Il valore Del reddito Complessivo Prodotto dal lavoro Quando ti trovi Di fronte A questa A questa Somma Di problemi E Delle soluzioni Che non Che evidentemente Chiunque faticherebbe A trovare A prescindere Da chi va Il governo In questo momento Da chi c'è Ovviamente Che ha l'obbligo E l'onere Di governare Ma anche se ci fossero Formazioni diverse Con la condizione Macroeconomica Che abbiamo Chiunque avrebbe Grosse difficoltà Mi permetta Una battuta Cioè Quando io sento Sulle proteste Degli agricoltori Anche qui si fa Una discussione A mio parere Che è Gravemente Viziata Perché si Definiscono Agricoltori Come che gli Agricoltosi Fossero tutti Uguali Ci sono Agricoltori Che Lavorano La terra E non Riescono A guadagnare Il sufficiente Per vivere E hanno Ragione Ampie Ragioni Di protestare Ci sono Agricoltori E ne abbiamo Per fortuna Tanti Nella nostra Regione Che hanno Redditi Elevatissimi Perché Hanno prodotti Che vanno Mercato Che tira E si sono Organizzati Per poter Guadagnare Bene Complimenti Perché Ma non si capisce Perché A quelli Che stanno Benone Si dovrebbe Togliere L'IRPEF Alla pari Di quelli Che non Ce la fanno E Questa Unificazione Cioè Cercare Di individuare Una categoria Merciologica Nel caso Specifico E dire Sono tutti Uguali È Un errore Enorme Come dire Che i lavoratori Dipendenti Sono tutti Uguali Perché Tra i lavoratori Dipendenti Ci sono Anche i dirigenti Che hanno Redditi Che sono 5, 6, 10 A seconda Del livello Che copro Rispetto A quelli Che citavo Prima Che sono Quelli In difficoltà Quindi La società Dovrebbe Puntare Soprattutto Per Creare Un equilibrio A Favorire Aiutare E Servire Nel senso Più alto Del termine Chi ha Più bisogno Di essere Aiutato Per uscire Dalle condizioni Di difficoltà In cui Le persone E fasce Sempre più alte Di persone Oggi Si trovano E Vedo Dall'osservatorio Di una fabbrica Che tutto sommato Con tutte le difficoltà Che sta attraversando Fin tanto che c'è Almeno Tutte le difficoltà Che sta attraversando È una ancora Che ha retribuzioni Leggermente più alte Di altre realtà E questo va riconosciuto Ma proprio perché Si dà in quella condizione Vedere persone Che a fine Della mese Non ce la fanno E ti chiedono Un aiuto Di 10 20 15 30 euro Chi può Tra lavoratori Ci si aiuta E gli si dà È dalla lunga Come siamo messi Dentro nei luoghi Di lavoro È chiaro Che poi se lei mi dice In quei luoghi di lavoro Può succedere che Può succedere Certo che La gente protesta E proprio questo Dobbiamo evitare Che la protesta Legittima Si trasformi In quella Rabbia Che non trova Appoggio Nella società E quindi cerca Via brevi E sbagliate Di soluzione Dei problemi L'impegno Deve essere Di tutti i soggetti Della società Dalle istituzioni Al sindacato Alle imprese Sapendo però Che c'è qualcuno Che sta male E qualcuno Che sta anche peggio E i primi Da aiutare Sono quelli Che stanno peggio Grazie Breda A proposito Di aziende In crisi Ce n'è una A Santa Maria Di Sala La Nara Camice Che ha annunciato La chiusura Di un sito Produttivo Vediamo Chiudiamo Probabilmente Chiudiamo A brevissimo E dopo 35 anni Di lavoro Siamo a casa Per i 24 Dipendenti La notizia è arrivata Come un fulmine A ciel sereno L'azienda Che produce Camice Con lo storico Marchionara Ha deciso Di chiudere Il sito Produttivo Di Santa Maria Di Sala E subito E scattata La protesta Dei sindacati Che hanno manifestato Insieme ai lavoratori Prima davanti Alla sede Della CGL E della Cisla Di Mestre E poi davanti Agli uffici regionali Di Veneto Lavoro Dove i rappresentanti Hanno incontrato L'azienda E noi avevamo Da subito Evidenziato Che secondo Il nostro Punto di vista L'azienda Aveva intenzione Di uscire Da Santa Maria Di Sala Loro ci avevano Sempre confortato Dicendoci Che invece Questo non era E purtroppo Oggi siamo di fronte A una chiusura Che lascia a casa 20 persone Più altre 3 Abbiamo fatto Molte proposte Per provare A trovare Delle soluzioni Che potevano essere Anche un lavoro A distanza Insomma Oggi si fanno Accordi Accordi del genere Abbiamo chiesto Quali erano Le condizioni Poi Di eventuali Proposte Su altre sedi Quindi speravamo Insomma Che oggi L'azienda Venisse Con qualcosa Di più Concreto Con la mediazione Della regione L'azienda Ha proposto Di incontrare Individualmente I dipendenti Nei prossimi giorni Per discutere Le prospettive Future Compreso Un possibile Trasferimento In altre sedi Come Milano Quindi è in programma Un nuovo incontro Azienda Sindacati E poi Azienda Sindacati Veneto Lavoro Siamo appena All'inizio Non abbiamo visto Molta apertura Da parte Dell'azienda Però Vedo che c'è Un gruppo Molto unito Di lavoratori Di lavoratrici Quindi penso Che questa unione Ci farà Molto bene Ci darà forza Per andare avanti E portare a casa Al meglio Le prospettive Insomma Preoccupano I dipendenti Mentre i sindacati Chiedono La cassa Integrazione Straordinaria Per i mesi Che serviranno A trovare Una soluzione Definitiva Che non impoverisca Il territorio Veneziano Servizio di Filippo Foes Sindaco D'Isola Vicentina Che riscontri Ha di queste Difficoltà Molto diffuse Ce n'è di ogni genere Insomma Nelle aziende Nelle famiglie Per questioni Economiche C'è il disagio Giovanile C'è Fleximan Poi le chiederò Degli autovelox Perché sono stati Qua tanti sindaci Ognuno ha detto Ha detto La sua Ecco Ma sulla Questa situazione Difficile Sindaco Non vedete Però Dobbiamo dire Anche di Di luce Ombra Non è che sia Tutta una catastrofe Ci sono Aziende Che vanno A gonfie vele E altre Che purtroppo Sono in difficoltà Sì E così In effetti Non è tutto Brutto E triste C'è anche Qualcosa Che è lucico Ogni tanto Ma Dobbiamo stare attenti Che non sia Qualche cosa Non è sempre oro Nemmeno quello Che luccica Perché sicuramente Sono situazioni Di difficoltà Diffuse Ma ci sono anche Situazioni Che vanno Anche bene A Isola Vicentina Ad esempio Giusto per fare degli esempi Il mercato immobiliare È stato Molto vessato Da alcuni fallimenti Di aziende Importanti Che avevano Grandi proprietà immobiliari Quindi il fallimento La messa poi All'asta Dei vari patrimoni Immobiliari Hanno Depauperato Anche dal punto di vista Del territorio Del valore immobiliare Isola Vicentina Ma non solo Però L'arrivo Della Pedemontana E il casello Vicino di Malo Ha sicuramente Fatto riscoprire Al Veneto E anche Agli investitori Quel territorio Particolare Servito da un'infrastruttura Che è comoda Quindi ci sono Effettivamente Direttore Luci e Ombre Che vanno Avalorizzate E attenzionate Punti di forza E punti di debolezza Che hanno fatto Del Veneto E faranno ancora Del Veneto Sicuramente una terra Che sa reagire A me dispiace Sentire Chi strumentalizza Queste difficoltà Perché Se ci sono Delle difficoltà Vanno trovate Delle soluzioni Chi le strumentalizza Le usa A proprio Scopo Naturalmente Si stanno avvicinando Anche le elezioni europee Probabilmente qualcuno Cerca Il palco Per portare a casa Dei risultati Magari Migliori Di quelli Che prospettano I sondaggi Ma il tema vero È che La strumentalizzazione Va poi Come abbiamo detto prima Anche a scaldare Gli animi A scaldare Quelle situazioni Che magari Non sono dovute Al governo Meloni Che è in carica Da un anno e mezzo E poco più Ma sono situazioni Che provengono Lo sappiamo benissimo Insomma Sappiamo come succedono Certe cose Sono poi Rettaggi del passato Situazioni che non vengono risolte Che arrivano poi A un certo punto Tutti i nodi Revono al pettine E quindi La situazione Poi va risolta E quindi Vengono fuori le magagne Nara Camice Ne è un caso Pochi dipendenti Se vogliamo 24 Un marchio Noto Conosciuto Sparisce da lì Quello stabilimento Quella situazione produttiva Impoveriamo il territorio Impoveriamo L'abbiamo impoverito E qua bisogna guardare Un po' indietro Nel tempo Anche con tanta Delocalizzazione Ce ne siamo resi conto Bruttalmente Poi Con il covid Quando poi Le nostre aziende Venete Che avevano Delocalizzato All'estero Dall'altra parte del mondo Facevano fatica A recuperare I loro pezzi Prodotti Là Ma si sono avvantaggiate Magari aziende europee Che Avevano Delocalizzato Che ne so Magari Aziende italiane Che avevano Delocalizzato In Europa Quindi È una situazione Mondiale Naturalmente Di cui non si può Inquilpare Il singolo Governo Italiano Nuovo Non è più intanto Nuovo Ma non va neanche Troppo difeso Insomma Prendiamoci anche Le nostre responsabilità E ecco A me Dà più Noia La strumentalizzazione Che si fa Di questa situazione Di gravità Non serve Andare a Mettere dito Nella piaga Serve lavorare Compatti Per trovare Delle soluzioni Avete visto Sanremo Arma Di distrazione Di massa Tanti Si soffermano Su I problemi Di questo Paese Spesso I nostri Spettatori Scrivono Della Tredicenne Violentata Da sette Ragazzi egiziani In Sicilia Dicendo Che Siccome Sono Stranieri Non se ne parla Per non esporsi A critiche Di razzismo Mentre invece La ragazza Di Caivano Insomma Siamo andati Avanti Per mesi Sono tutte Dinamiche Appunto Mediatiche Di cui si può Si può Discutere Ma spesso Sono anche Piuttosto Poco Poco Decifrabili Dicevo al sindaco D'Isola Vicentina Dei suoi colleghi Che hanno avuto a che fare Con Fleximan Vediamo Lo schiaffo Che ha voluto dare Il sindaco Di Campodoro A chi Aveva Distrutto L'auto Velox Su una strada Molto Trafficata Vediamo Per niente Intimorito Dal fenomeno Fleximan Anzi Più convinto E determinato Che mai Sindaco Di Campodoro Gianfranco Vezzaro Ha deciso Di posizionare Lunguna Delle vie Più trafficate Del suo comune Dove Gli automobilisti Non rispettano Mai I limiti Di velocità Correndo Ben più forte Dei 70 Km Tre orari Un nuovo sistema Di rilevazione Della velocità Un Velocar Si tratta Di uno strumento Che funziona In maniera bidirezionale Quindi prende Da una parte Anche dall'altra Quindi da chi Arriva da Villafranca Verso Campodoro E viceversa È uno strumento Che viene installato Fisso per il momento Qui in via Balla Ma può essere spostato Anche da altre parti Abbiamo altre vie Che hanno queste criticità Può essere utilizzato Esclusivamente Con il presidio Della polizia locale Il punto di via Balla Dove verrà posizionato E lo stesso Dove c'era fino a poco tempo fa Un Velobox Centrato da un auto Durante un incidente stradale In questo periodo Il fenomeno Fleximen E i suoi emulatori Che si stanno accanendo Contro autovelox Velobox E cartelli stradali Con il limite Dei 30 km orari Sta creando non pochi problemi E spese ai sindaci Che nei loro comuni Hanno sistemi di rilevazione Della velocità Ma altre tipologie Come dossi e semafori Non sono sempre strade percorribili Per fronteggiare Automobilisti indisciplinati Il problema dei dossi È la rumorosità E molte volte Quando si posizionano Poi chi abita vicino Ti viene a chiedere Di toglierli Perché di notte Soprattutto Non fanno un rumore assordante L'alternativa Era quella Del semaforo intelligente Però anche questa Una volta che capiscono Che poi Soprattutto di notte Di sera Capiscono che non c'è Un T-Red Passano anche con Rosso E quindi in una strada Come questa Che tra l'altro È una strada di campagna Non avrebbe secondo me Avuto l'effetto Insomma che si voleva ottenere Cioè proprio quello di Creare le condizioni Perché le macchine Rispettassero i limiti di velocità Che in questo caso Sono 70 km all'ora A Campodoro Solo poche settimane fa C'è stato un incidente mortale In una strada In una strada parallela A quella dove verrà posizionato Il Velocar Il sindaco dunque Non teme Fleximan Io sinceramente penso A dati del 2023 Ai 1500 Quasi 1500 morti Ai 100.000 feriti Sulle strade Penso a tanti Genitori Che piangono i loro figli E quindi guardiamo la vita E cerchiamo di far rispettare Le regole Sappiamo che la velocità Purtroppo in alcuni casi Ha degli effetti mortali Quasi sempre L'unico strumento Per riuscire in qualche modo A raggiungere l'obiettivo È quella appunto Di posizionare un autovelox Non vedo altre possibilità C'è Valentina a Visentini Ieri avevamo qui La sindaca di Cappella Maggiore Maria Rosa Barazza Lì un uomo con un trattore Ha divelto i cartelli Con limite di velocità da 30 Poi c'è anche il pazzo Che va a modificare I cartelli da 30 E trasforma Trasforma il 3 in 8 Per cui uno arriva in un paesino Vede 80 Va sparato Io non so veramente È un paese Siamo un paese pieno di svitati Di folli Signaco Come Lei come si regola Conegliano Con gli autovelox Con questi Tra l'altro Le hanno anche smontato Un dissuasore Più dissuasori Svitati E portati via Diciamo che magari In zone viene da sorridere Ma c'è veramente poco da sorridere Io penso che un paese Che non fa rispettare Lo stato di diritto C'è un paese nel quale Ognuno può fare quello che vuole È un paese Che non ha più regole Capisco anche le difficoltà Di cui si parlava prima Oggi La difficoltà anche economica Porta molte persone Ad essere in difficoltà Le difficoltà economiche Portano anche spesso A difficoltà sociali E a difficoltà Di relazioni interpersonali Però non si può Prescindere dal rispetto Della legge Per cui Capisco la sindaca Di Cappella Maggiore Ma capisco anche Tutti coloro Che non vogliono Che si vada contro Il rispetto delle norme Perché a questo punto qua Possiamo tutti scrivere Sui muri Ciò che vogliamo Possiamo imbrattare Le nostre strade Possiamo Non rispettare I codici della strada Ecco Penso che Come ho detto prima Nello stato di diritto Le regole vadano rispettate Ci piacciono O non ci piacciono Anche a me Sicuramente alcune cose Non piacciono molto Anche i limiti Di 30 all'ora Di 50 In alcune zone Sono fastidiosi Però come diceva prima Il sindaco Oltre 2000 feriti L'anno scorso Sulle nostre strade Centinaia di morti Io penso Che la prima cosa Da fare Sia far rallentare Le persone Già per strada Abbiamo posizionato Una panchina bianca Proprio a Conegliano E ricordo Di alcune persone Che sono venute a mancare Per incidenti Lungo le strade Penso che nessuno di noi Vuole più suonare I campanelli Dei genitori E dire che i figli Non sono tornati a casa Una multa Non è nulla Ma bisogna pensare Che è una vita tantissima Per cui Se questi autovex Le rotatorie Che stiamo mettendo I diciosori Ci porteranno a suonare Anche un solo campanello In meno Avremo raggiunto Il nostro scopo Poi le multe Le abbiamo prese tutti Danno fastidio Certamente Anch'io ho preso multe A 50 km orari O a 92 Dove il limite Era di 90 Quando arrivi a casa Sicuramente Un po' Ti incazzi Ma dopo vai a pagarle Perché è corretto Pagarle Perché se noi diciamo Che se il limite È di 90 A 91 Non dovremo pagare la multa Allora dovete dirmi Se poi il limite Va portato a 95 A 96 Non la paghiamo Ecco Le norme ci sono Vanno rispettate Possiamo fare anche 5 km all'ora In meno del limite Per cui Ritengo Ripeto Che una vita umana Valga molto Di più Di una multa Certo Non bisogna far cassa Con gli autovelox Se voi mi dite Ci sono alcune posizioni In cui gli autovelox Effettivamente Sono posizionati In alcuni punti Che danno molto fastidio Però Il rispetto Delle norme Della strada Il rispetto Delle norme In generale Viene prima Di qualsiasi Egoismo personale Ecco Io su questo Ci tengo molto Perché noi sindaci O chiunque Abbia un ruolo Istituzionale Deve prima di tutto Far rispettare la legge Poi possiamo Essere d'accordo Possiamo discutere Su ciò che vogliamo Però la legge Va sempre E comunque Rispettata Perché se cominciamo A mettere in dubbio La legge Allora cominciamo A mettere in dubbio Anche tutti quei patti sociali Che abbiamo anche Tra le diverse categorie Diverse persone Io tornando Prima All'educazione Si è parlato Di educazione Si è parlato Dispiace molto Che sia Settato per esempio Il patto Che esiste Tra le scuole E le famiglie Ecco Questa è una delle cose Che io considero Più dannosa Nella società contemporanea Cioè il fatto Che l'educazione Dei nostri ragazzi Non veda Le famiglie Le scuole Della stessa parte Quando noi parliamo Con i genitori Anche noi sindaci Magari entriamo Nelle scuole E diciamo I genitori Ricordiamo un po' Come eravamo noi Non è un esercizio romantico Io ricordo Che se a scuola La maestra Ti riprendeva Arrivavi a casa E speravi Che i genitori Non lo sapessero Perché quello Che ti succedeva A scuola Era niente Rispetto A quello Che poteva succedere A casa E quando parli Con i singoli genitori Ti danno ragione Cioè ti dicono Sì hai ragione Sindaco Bisogna fare così Eccetera Poi quando li trovi Che il figlio è loro Cioè ti accorgi Immediatamente Che le cose cambiano Ecco questo patto Generazionale Da un lato E il patto Tra famiglia e scuole Secondo me Va ripristinato Prima possibile Perché i ragazzi Hanno bisogno di regole E noi abbiamo Dei ragazzi straordinari Abbiamo una nuova generazione Di persone incredibili Che hanno grandissime capacità Però dobbiamo essere in grado Di dire loro Che esistono delle regole Vanno rispettate E le regole Il rispetto delle regole Aiuta soprattutto Le persone più deboli Perché il non rispetto Delle regole Aiuta i più forti Se invece noi Vogliamo aiutare Le fasce più deboli Le persone in difficoltà Le persone che hanno Dei problemi Dobbiamo far rispettare Le regole da tutti Perché all'interno Delle regole Le persone più fragili Sono tutelate Quando le regole Non vengono più rispettate Succede che Anche gli atti di bullismo Far west Tutto quanto Viene in un certo modo Tolerato Vedevo che l'assessore Vesio annuiva Poi la sentiamo di nuovo Intanto Dicevo Grandi supporters Di Fleximan Di Parkman Che è quello che Distrugge i parchimetri Di Boxman Che è quello che butta giù Anche a Venezia Anche a Venezia Si è inneggiato A Fleximan Vediamo Era annunciato Non poteva mancare Al carnevale di Venezia Il primo travestito Da Fleximan Eccomi qua Chi sei Da dove vieni E come ti è venuta L'idea ovviamente Allora sono Andrea Stocco Vengo da Cazzago Vicino ad Olo In provincia di Pianiga E ovviamente Mi è venuto in mente Di travestirmi a Fleximan Perché va molto di moda In questo periodo E la sua storia Insomma la conosciamo tutti E quindi Mi è venuto così Allora l'equipaggiamento Da Fleximan Cosa comprende? Allora un flessibile Che è vero Però ci ho messo Un po' di scotch In modo tale Che non sia pericoloso Poi qua Ho messo un cartello Dei veri autovelox L'ho stampato stamattina E poi basta La pettorina gialla E le scarpe Gli scarponi Ti manca l'autovelox però? E però Ci sono anche gli occhiali Velocissimi Perché la sicurezza Prima di tutto? Perché non sia mai Che mi vadano le cose Negli occhi Quando uso il flessibile Ascolta Tieni a sottolinearlo Non sei il vero Fleximan No no non sono il vero Fleximan Quindi polizia locale Carabinieri Non segnatevi questo Sono solo uno A cui piace divertirsi E questa è la tua clac Yes Sì E l'abbiamo proposto ieri Se l'abbiamo rivisto Oggi Ma come diceva Il sindaco di Campodoro E poi bisogna anche pensare A quei A quei padri A quelle madri Che poi devono Un giorno dopo Devono andare Dopo un incidente Devono andare A dare l'addio Al loro figlio Alla loro figlia Come in questo caso Una 25enne Che ha detto al fidanzato Fammi guidare l'auto E finita in un canale Quando passava di qua Aveva tante belle qualità Aveva tante belle qualità per me Dopo Mi ricordo così Perché l'ho vista da piccola Aveva un anno Quindi l'ho vista crescere In via Marconi In via Marconi a crocetta del Montello Potrà arrivare solo dalla ragazzo Che si trovava in auto con lei L'amico 23enne di Vidora Ricoverato in prognosi riservate In rianimazione al cafoncello Nelle scorse ore Si è risvegliato Ma rimane intubato Per lui ci sono speranze Quello che sembra certo al momento È che alla guida dell'auto Una Mazda MX-5 Cabrio Ci fosse Chiara Anche se il mezzo Era di proprietà del 23enne La sbandata dopo una curva Una fuoriuscita autonoma Secca A terra Nessun segno apparente di frenata A soccorrere i due È stato un cittadino straniero Che si stava recando Al lavoro in bicicletta Con ogni probabilità Dicono anche i carabinieri È riuscito a salvare la vita Alla ragazzo Praticandogli il massaggio cardiaco Chiara lascia papà Loris Mamma Flora E la sorella Francesca La madre è rientrata In queste ore dall'estero Dove si era recata A trovare una sorella Ieri mattina è partita Mi ha detto il marito Stamattina Si è partita ieri mattina E quando è arrivata Ha saputo la notizia Penso sia tornata Cioè tempo di fare le carte E ritornare indietro Insomma ecco non lo so Comunque guardato È una famiglia meravigliosa La disperazione la basta Lui non parla Cosa vuoi che faccia Piange e basta La figlia è uguale Ma non si può fare niente Basta Se si riuscisse a sollevare Di qualcosa Ma non si riesce A fare niente Purtroppo Attoniti anche gli amici Victor è titolare del bar Che Chiara frequentava Una persona molto solare Molto vivace Sì siamo tutti molto sconvolti Da quello che è successo Insomma da quando abbiamo ricevuto La notizia ieri Due giorni fa era qua Quindi sì siamo rimasti tutti Molto Sì non ci credevamo Insomma La comunità è una famiglia Quindi quando c'è male Per qualcuno C'è male un po' per tutti E quindi altro Non possiamo che A parole Cercare di esprimerlo Forse l'abbraccio Servirebbe di più Ma ci siamo Non siamo tutti vicini Vediamo anche il soccorritore Perché poi ci sono Questi uomini Che si trovano In genere Sono sindaci Forze dell'ordine Vigili del fuoco Che arrivano Fanno l'impossibile Ma a volte Non si riesce A salvare Una o più vite Vediamo il soccorritore Di Oderzo Come ho capito Che lui sta in treviso Vogliamo andare Per vedersi Per parlare E chiedere come lo sta Come si sente Vorrebbe abbracciarlo Sì sì certo Certo Vorrebbe incontrare E abbracciare il ragazzo Di 23 anni Di Vidora A cui ha salvato la vita Ieri pomeriggio In via Freyne Ribaltata E non ci pensa E non ci pensa su due volte Fermo un camion Che trasporta una gru E insieme all'autista Agganciano la vettura Sollevandola Ho visto che era un ragazzo In acqua E una ragazza Era In macchina Con Come si dice Con 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 cintura Quando si rende conto che il 23enne Respira Nicolai Non trattiene le lacrime Io ho iniziato a piangere Quando ho visto che lui Ho iniziato a respirare Davvero che ho iniziato a piangere Perché ero felice Se passavo io davanti Moriva anche lui Ma non c'è tempo Il giovane inizia subito Ha riuscito a rianimare Chiara Come imparato Durante le lezioni Di primo soccorso Ma Facevo Di più di due o tre minuti Lei costa tutto Ma Ho visto che Non aiutava niente Quindi Ho capito che Già era morta La gioia Per essere riuscito A rianimare il ragazzo Si infrange Contro la disperazione Per la morte di Chiara C'era Anche due o tre persone Magari Se ne aiutavano Era totale Quattro persone Salvamo anche lei Nicolai fatica a riprendersi Dopo quanto accaduto La scena di quei terribili minuti Ancora davanti agli occhi E la consapevolezza Di aver fatto il possibile Per i due giovani Ma non vuole Essere chiamato eroe Tutte persone Che devono Aiutare uno o l'altro Questo non che Io sono eroe Io sono un ragazzo semplice Servizio di Francesca Di Francesca Bozza Chiudiamo questa pagina Tragica Tanto dovremo riaprirla Nei prossimi giorni Inevitabilmente Perché ogni Ogni giorno Che passa Noi nei nostri tre giornali Dobbiamo inserire Due, tre, quattro Incidenti Stradali Nelle province O sulle nostre Autostrade Passiamo invece Adesso Alla politica Perché Veneto Con i nervi a fior di pelle Vale anche per Le prossime europee Per le regionali Anche per le amministrative Che sono Nell'Election Day Con Con le europee Perché avrete sentito Che si è deciso Di concedere ai sindaci Che amministrano comuni Tra i 5 e i 15 mila abitanti Di fare un terzo mandato Per cui Ci sono tanti sindaci Che improvvisamente Si sono ritrovati Nella possibilità Di prolungare Al terzo mandato Alcuni Hanno già detto Io mi fermo qui Altri Hanno questa Possibilità C'è A questo punto Pare che la Lega Possa voler Correre da sola Perché tanti sindaci Sono della Lega E quindi A quel punto Ne approfitterebbe La Lega Per mantenere I suoi I suoi primi I suoi primi Cittadini Sulle europee Fibrillazioni A più non posso Poi sentiremo Cosa ha detto ieri Antenna 3 Roberto Morcato Ha marcato Ha detto Quello che ha già detto Gian Antonio Dare Se Salvini Dovesse mettere Come capolista Il generale Vannacci Io non mi candido Allora Avvocato Crea Come Che aria tira Per Fratelli d'Italia Non male Diciamo Mi pare Rispetto a tutte Queste tensioni Diciamo che I sondaggi Danno ancora Una forte ascesa Di Fratelli d'Italia Si attendono Si attende Questa tornata Sia di amministrative Molto importanti Non so Nel Veneto Sono un centinaio Di comuni 50 O più di forse 55 Solo nella provincia Di Treviso E poi Le europee Devo dire direttore Che mi ha un po' sorpreso Ma non troppo Le affermazioni Del segretario regionale Stefani Non so Forse una riunione Qualcosa Del coordinamento regionale Della segreteria regionale Della Lega Che segue Quella che è stato Io penso anche Un po' Una provocazione Da parte di alcuni Esponenti della Lega Non ultimo Non ultimo Dare due giorni fa Ma che aveva affermato Che se non c'è Il terzo mandato E Fratelli Italia Dovesse rivendicare La candidatura Del governatore Del Veneto La Lega Correrebbe da sola E Questo fa seguito A questo Ha fatto seguito Ieri Le dichiarazioni Del segretario Regionale Stefani Che la Lega Correrebbe da solo Quanto meno Alle provinciali Mi pare Del mese di marzo Da una parte Mi è un po' sorpreso Perché significerebbe Una presa di posizione Importante Verso quella Che è una Rottura politica Della coalizione Di centrodestra Che ormai È in essere Da qualche decennio E che Ha dimostrato Nel momento In cui Si va insieme In maniera compatta Si vince Diversamente Ci sono Buone possibilità Di uscire sconfitte E È sorprendente Il fatto Che La Lega Pretenda Sempre e comunque Per mantenere L'accordo Di coalizione Che i rappresentanti I candidati I sindaci O Degli altri Organi esecutivi Delle altre Amministrazioni Che devono essere Leghisti Diversamente Si va Da soli Ecco È una presa di posizione Che non so Se sia Provocatoria Per cercare di Non tanto Riconquistare Del consenso Quanto Forse Per Qualizzare Le divisioni Che ci sono All'interno Della Lega Normalmente Non mi piace Parlare Gli altri Partiti Ma ne parlo In questo Momento Perché Queste affermazioni Sinceramente Mi hanno sorpreso E non mi trovano D'accordo Non sono Dirigente Né provinciale Come L'amico Fabio Né Tanto meno Regionale Come Stefani Però mi pare Che sia una presa Di posizione Quanto meno Inopportuna Poi se vuole Dico anche la mia Sui terzi mandati Anche per quello Della regione Ma io ho un'idea Perché Quello che viene detto Soprattutto Da coloro Leggisi Piuttosto che Del Partito Democratico Altri governatori De Luca Emiliano Eccetera Che affermano Che il terzo mandato Sia necessario Perché bisogna lasciare Perché sarebbe Una manifestazione Di democrazia Perché il popolo Deve scegliere E' esattamente Il contrario Nel senso Che Il fatto Di poter consentire L'eliminazione Del numero Di mandati Del limite Di mandati Innanzitutto È contrario Ai principi Di democrazia Che vogliono Una limitazione Dei mandati Dell'organo Esecutivo Proprio per evitare Quella che è La radicalizzazione Del potere Che è in mano All'esecutivo E non Certamente All'egislativo E questo è un primo aspetto Ma nel momento In cui E lo sta dimostrando Le storie Di questi giorni Vi è la possibilità Dei secondi Dei terzi mandati Cioè I sindaci Piuttosto che I governatori Uscenti Che hanno la possibilità Di ricandidarsi Manifestano Un Quasi diritto Alla ricandidatura E questo è anche Nel centrodestra È stato anche così Nel senso che Al secondo mandato Un principio Sempre Condiviso Dalla coalizione Di centrodestra È quello Di ripresentare L'uscente Se è così Non c'è nessuna libertà Da parte dell'elettore Di scegliersi Il candidato L'elettore Deve Votare Una coalizione Un'altra Sulla base Del candidato Scelto comunque Dalla coalizione Nel momento In cui c'è il secondo Il terzo Il quarto mandato Con l'imposizione Del soggetto Del candidato Uscente Questo non è Democrazia Perché Il popolo Il cittadino Può scegliere Perché Non sceglie il cittadino Chi deve essere candidato Il cittadino Sceglie Tra i candidati Quello che vuole fare Eleggere Quindi è esattamente Un principio Opposto A quello Di una sana Democrazia Grazie Concato Siamo esausti Di guerre Di armi Di stranieri Di ladri Delinquenti Dover vivere Con 1500 euro Con patologie Impianti Ho lavorato 40 anni E sono vecchia E malatta Tantissimi I messaggi Che arrivano Da persone Che hanno Grosse Difficoltà Assessore Volevo Chiederle una cosa Ieri Abbiamo parlato Dei brasiliani Che chiedono La cittadinanza In Veneto C'è una pioggia Di richieste Ci sono le anagrafe Di molti comuni Che vanno in tilt Perché non riescono A star dietro A tutto questo lavoro E Diceva il sindaco Di Val di Zoldo Ieri sera Anche perché Manca il personale E così In tutti i comuni C'è una penuria Di dipendenti Di amministrativi Sicuramente È un problema Un po' più complesso Rispetto al Derubricare Al manca organico Diciamo che è Uno slogan Piuttosto popolare Nel senso che Per esempio Noi quando siamo Arrivati nel 2015 Con il primo mandato Del sindaco Luigi Brugnaro Nel comune di Venezia Avevamo Una macchina amministrativa Che contava Circa 3200 Dipendenti A oggi È chiaramente Molto inferiore In numero Ma cosa vuol dire Che abbiamo tagliato servizi No assolutamente Vuol dire che abbiamo Riorganizzato Completamente La macchina amministrativa Rendendola più funzionale Rispetto a quelle Che sono le esigenze C'è da dire Che il mondo è cambiato Naturalmente In questo periodo Quindi Le esigenze Delle persone Di oggi Non sono le stesse Esigenze Delle persone Di dieci anni fa Così come anche Le strumentazioni Quindi è impensabile Anche nel momento E qui parlo proprio D'assessore con delega Non più alla politica educativa Ma parlo proprio D'assessore con delega Al personale Quindi alle risorse umane È impensabile Porre come criterio Di confronto La stessa situazione Che magari Con cui convivevamo Potenzialmente Nel 2015 Questo perché Per esempio Anche alle anagrafi Noi abbiamo Operato Una grossa rivoluzione In tutti gli uffici Amministrativi Abbiamo Realizzato Attraverso una piattaforma Multicanale Che si chiama Dime Grazie al supporto Tecnologico Di Venice Che è una nostra Sostanzialmente Partecipata Che si occupa Dei sistemi tecnologici Un canale Diretto ai cittadini Di modo che questi Senza uscire di casa Possano accedere A circa un'ottantina Di servizi E stamparsi I certificati Prenotarsi direttamente Da casa A determinati appuntamenti Richiedere altri documenti Altri atti E questo naturalmente Che cos'è? E' il messaggio Della digitalizzazione Che va a investire un po' Tutta la pubblica amministrazione Semplificando Quello che è il lavoro Sia dell'operatore Che soprattutto Dal covid Ha imparato Chiaramente A organizzarsi In maniera più repentina Se anche dell'utente Che si trova davanti Che si trova davanti Quindi non si trova più Necessariamente costretto Ad affollamenti Dei luoghi A code infinite E via dicendo Quindi cerchiamo Di mettere insieme Quello che è il Quello che è la velocità Rispetto a quelle che sono A quelle che sono anche Le esigenze Del pubblico Chiaro che si può Sempre migliorare E in questo naturalmente Benvenga il dialogo Anche con tutte le parti sociali E quello che cerchiamo Di fare giorno per giorno È evidente che bisogna Anche come dire Comprendere Che i tempi sono cambiati E faccio un piccolo esempio Anche quando emerge Sistematicamente Perché poi diventa anche routine La polemica Della carta di identità In scadenza E il tempo di attesa Che supera il mese Mese e mezzo Allora al di là del fatto Che il comune di Venezia Ha da sempre sottocchio Le statistiche Anche a livello Tempistiche E siamo nella media Rispetto anche agli altri comuni Ma comunque La carta di identità È un documento Di cui tu sai Per certo La scadenza Almeno 5, 6, 7 anni prima Perché è scritta Proprio sul tuo documento Quindi c'è tutto il tempo Anche per il cittadino Di premunirsi E potersi prenotare È un po' l'impostazione Che noi dovremmo recuperare Quella piccola eredità positiva Che abbiamo dal covid Cioè l'impostazione È programmare Ecco che poi È un po' anche la base Del contributo di accesso Contributo di accesso Sì esatto Poi ne parleremo molto Nei prossimi giorni Grazie assessore È stata molto chiara Vediamo Vediamo Roberto Marchetto Ma intanto Saluto Raffaele Speranzon Sedatore di Fratelli Buonasera Speranzon Buonasera direttore Grazie per l'invito Grazie Bentornato Bentornato a Focus Vediamo Una Un'intervista Che abbiamo fatto Ad Antenna 3 Con Roberto Marchetto E poi E poi vengo da lei Andiamo poi da Giorgio Denardi Da tutti i nostri Da tutti i nostri ospiti Vediamo Marchetto Lei si candida All'Europa Io non ho avuto Io posso anche dire Che mi candido qua Bisogna capire Come, con chi Con cosa Se il mio partito Non me l'ha chiesto Suppongo di no Insomma Siamo a fine La Lega ancora Non le l'ha chiesta No, no, no Assolutamente Non ho visto Un grande entusiasmo A parte Nella dirigenza Del mio partito Nei confronti Di una mia possibile candidatura I giorni della Merla Sono passati Ma tra Roberto Marcato E i vertici leghisti I rapporti restano freddi Anzi gelidi Ospite a Ring Lo stesso assessore Allo sviluppo economico Mister preferenza Alle regionali 2020 E uomo forte del carroccio Non nasconde Amarezza e stupore Questione Non solo personale Non è che noi stiamo Vivendo un particolare Momento di euforia Di consenso Di effervescenza Io Metterei in campo Tutti i migliori In termini di preferenze I primi dieci Preferenze Li costringerei Pistola alla tempia Ovviamente Metaforicamente Parlando Seguendo questa logica Salvini Pare intenzionato A candidare Il generale Vannacci Lei ci starebbe In un partito Che candida Come capolista Il generale Vannacci Non c'entro niente Io non c'entro nulla Non c'entra nulla La mia storia Non c'entra nulla Il mio apparato valoriale Non c'entra nulla Io rispetto tutti Non sto dicendo Che io ho ragione Vannacci Ha torto Ma i miei valori Il mio credo La mia cultura La mia sensibilità C'entra Vabbè 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 poco o nulla Con il generale Vannacci A proposito di valori Marcato si professa Apertamente antifascista Ricordando allo stesso tempo Che nel DNA della Lega Ci sono autonomia E territorio Ma a fronte di un carroccio gelido E che appare distante C'è un Flavio Tosi Alle grandi manovre Non posso nascondere Che visto che siamo stati Nemici acerrimi Insomma Gli abbia fatto piacere La richiesta Che è venuta Da Forza Italia Come da altri partiti Anche di sinistra Ovviamente Fa molto piacere È che io sono nato qua E qua vorrei restare Insomma ecco Questa è la mia casa È una sorta di ultimatum Il suo alla Lega No Ultimatum no È che mi piacerebbe capire Qual è la strategia Mi piacerebbe capire Qual è la strategia Ha detto Roberto Marcato A Christian Arboit Su Antenna 3 Raffaele Speranzon Chi aria tira a Roma Vedevo che C'è un problema Ci sono i problemi Con il premierato Vediamo un titolo Il pasticcio del governo Questo è un titolo Del fatto quotidiano Dubbi sulla norma Che regola sfiducia Dimissioni E casellati Apre già A nuove modifiche Il centrodestra Sul premierato Come sull'autonomia Vuole andare avanti A prescindere No? Beh Rispettiamo il patto Che abbiamo fatto Con gli elettori I quali abbiamo Promesso Che se fossimo Stati eletti Avremmo Trasformato E riformato Lo Stato Con l'elezione Diretta Quanto meno Del capo Del governo Perché è chiaro Che il capo Dello Stato Diventerebbe Molto più complesso Riuscire a Trovare Oltre I confini I confini Della maggioranza Anche delle adesioni Invece Sul premierato Noi speriamo E contiamo Di riuscire Anche a Abbracciare Un numero Maggiore Di parlamentari Rispetto a quelli Che sono A rappresentare Il centrodestra Speranzone Abbiamo titolato Stasera Veneto Con i nervi E fior di pelle Non è solo Il Veneto In realtà Perché qui Tra Trattori Problemi Che riguardano Stellantis Soprattutto La rivolta Degli agricoltori Roma Sarà sotto assedio In questi In questi giorni Lei Dal suo osservatorio E spesso Ovviamente Torna in Veneto Tutti i giorni Tutte le settimane Che cosa Che cosa Vede Cioè È una situazione Che sta peggiorando Nonostante Dati ufficiali Incontro Che ci sono anche Dati buoni Come quelli Dell'occupazione Ma Certo Se ci si guarda Attorno Le difficoltà Vedevo adesso Le spese Di condominio Adesso poi Vedremo i dati Ma insomma C'è tanta gente Che non le paga Perché non ce la fa Allora Non c'è dubbio Che la situazione Sia difficile È altrettanto vero Che se guardiamo Oltre i confine Anche i ricchi tedeschi Che sono sempre stati Un modello Da seguire Con la speranza Di raggiungere Il loro target In termini di servizi In termini di benessere In questo momento Stanno vivendo Una situazione Ben peggiore Rispetto a quella italiana È chiaro Che tante politiche Soprattutto L'Unione Europea Degli ultimi decenni Sono state miope Sono state sbagliate Hanno seguito Principi Dogmatici Ideologici Quelli della transizione Verde a tutti i costi Quelli che però In queste ore In questi giorni Anche grazie A un peso Sempre più autorevole Del governo italiano All'interno Dell'Unione Europea Vedono fare Degli importanti passi indietro All'Europa Le parole Di von der Leyen Oggi Sono parole Importantissime La Commissione Europea Ha deciso Di Non procedere Con Quella norma Che prevedeva Il divieto Pressoché Assoluto Di utilizzo Di Dei cosiddetti Pesticidi Dei farmaci Che possono permettere Le piante Di difendersi Dai batteri Dagli insetti Che avrebbero Di fatto Reso Impossibile Una norma Di questo tipo Approvata Avrebbe reso Impossibile Gran parte Delle coltivazioni Finalmente Anche grazie E soprattutto Grazie Alle proteste Che sono state Da parte Degli agricoltori In ogni parte D'Europa Ma anche grazie La spinta Del governo italiano C'è stata Questa presa Di posizione Questo passo Indietro È un segnale Positivo Questo Che ci lascia Anche ben sperare Rispetto a quello Che succederà L'indomani Delle elezioni europee Che ci saranno A giugno Perché Il Parlamento Dopo le elezioni In giugno Avrà una composizione Profondamente diversa Rispetto a quella Attuale E i condizionamenti Che sono stati Decisivi In questi anni Da parte Di verdi Di socialisti Ma soprattutto Da parte Dei verdi E della sinistra Radicale Presumibilmente Con l'Europa Che nascerà All'indomani Del voto Delle elezioni Di giugno Saranno Marginali Saranno marginalizzati Dalla politica europea E quindi Si potrà davvero Puntare Finalmente Alla crescita E anche A una percezione Dell'Europa Dicevo Lei non crede Che lì L'Europa Ha fatto un passo Indietro Sui pesticidi Però È una misura Che riguarda Soprattutto Le grandi imprese Poi ci sono E sono quelli Che proprio Sono i più Arrabbiati In questa protesta Sono piccole aziende Spesso a condizione familiare Che non riescono A star nei conti Per cui Si aspettano Che si decida Insieme alla grande Distribuzione Insieme ai grossisti Di fare in modo Che possano Recuperare Del guadagno Perché Dicevamo prima Spendono magari Cioè Vengono pagati Pochi centesimi Per una carota Che poi viene rivenduta A 3 euro Su quello Forse Lei crede Che si potrà Fare qualcosa Allora Diciamo che noi Come governo Quest'anno Abbiamo impiegato 300 milioni Per l'acquisto Di macchine agricole Altri 500 milioni Di aiuto Alle imprese Ci sono 2 miliardi In più Di quelli Che erano stati Previsti Con la stesura Precedente Quindi Dei governi Precedenti Al governo Meloni 2 miliardi In più Per il settore Agricolo E c'è Anche Una serie Di norme Che abbiamo Adottato Come ad esempio Che ci vedono Pionieri A livello europeo Come quella Ad esempio Che vieta Non solo La commercializzazione Ma anche E non solo La produzione Ma anche La sperimentazione Sulla cosiddetta Carne sintetica Perché abbiamo Un patrimonio Di valore In termini Di grandi Produzioni Di qualità Di DOP Di DOCG Sia dal punto di vista Agricolo Che dal punto di vista L'allevamento Che vanno difese Con un comparto Che ricordiamo Produce 504 miliardi Di fatturato E quindi Ha un valore Dal punto di vista Economico E sociale Importantissimo Economico Per le risorse Che produce E sociale Perché stiamo parlando Di decine E migliaia Di persone Impiegate direttamente E di milioni Calcolando anche Tutto l'indotto Detto questo È chiaro Che in questo momento Le politiche Non possono essere fatte Solo a livello Nazionale Necessariamente Ci vuole Una Condivisione Di obiettivi Su una scala Più ampia Perché Se noi Adottiamo Sappiamo che Alcune politiche Protezionistiche Per esempio Non le possiamo adottare All'interno Della comunità europea Se noi Decidessimo domani Di vietare Di vietare L'importazione Delle pesche O delle Non so Delle pere Che arrivano Dalla Polonia È una cosa Che non possiamo fare Perché Siamo all'interno Di un mercato Di scambio Nel quale Vige Una Vigono Delle regole concorrenziali L'Europa Vuole portarci Verso Un ambiente Più protetto Più sano Dove poter Far crescere I nostri figli In modo Salutare E abbiamo Poi invece Un governo Che a Roma Gonfia la protesta E usa In modo strumentale La protesta Degli agricoltori Per andare Contro l'Europa Beh Allora ci chiediamo Ma Come si può Convivere Con due Dimensioni Così contrapposte Quando Si parla Di Premierato Quindi Di accentrare I poteri Su Il premier Sul capo Del governo E al tempo stesso Si va In parallelo Con una legge Che vuole Spingere Sulle autonomie Locali Io mi chiedo Beh Io cittadino Qualsiasi Non uomo politico Ma come tanti altri Si chiedo Ma qual è la linea È quella di accentrare In una persona Tanti poteri O di distribuirli Sulle regioni Con l'autonomia Con il federalismo Quando Atreviso Nel nostro piccolo Si parla Di Greenleaf Award Di Una città Che deve essere Green Deve essere Verde E poi Tagliamo Tutti quei pochi Di alberi Che ci sono In centro città E si va A costruire Un parcheggio Con 430 posti auto In pieno centro Atreviso Tirando tutto il traffico Dentro Le mura storiche Di Atreviso Beh È chiaro Che sorge La domanda Come si può Convivere Con queste Questi atteggiamenti Schizofrenici Dove ci si racconta Delle cose Che sono una Contrapposta All'altra E non si ha più La sensazione Di una linea strategica Per cui Si dice E si fa Quello che Fa più comodo In quel momento E Questo è L'interpretazione Politica Di una tattica Vissuta Giorno per giorno In funzione Di un consenso Che deve essere Massimizzato Giorno per giorno Quando invece Noi abbiamo bisogno Di una strategia Che abbia 20-30 anni Di traguardo Perché se oggi Ci sono le aziende Che chiudono Perché ci sono Dei problemi Di un certo tipo Oppure ci sono Degli incidenti stradali Non stiamo A discutere Sull'autovelox È chiaro Che serve L'autovelox Dobbiamo ragionare Su che tipo Di civiltà Stiamo sviluppando Dove Le nostre città Tutto il nostro Stile di vita È basato Sull'automobile Basta Dobbiamo cambiare Modello di vita Non è che L'auto diventa L'onnipotenza Ci sono i mezzi pubblici C'è la mobilità lenta C'è il rispetto Delle regole Per cui l'automobilista Non deve parcheggiare In seconda O terza fila O fregarsene Dei limiti Di velocità Per cui Secondo me Questo è Un vero dramma Perché porta Poi alla frattura Sociale E alle tensioni Sociali E a queste forme Di schizofrenia Che sono Irrazionali E incomprensibili Per un cittadino Qualsiasi E porta Il distacco Della politica Per cui ormai Vota meno Del 50% Degli elettori E questo È un grande Grandissimo problema A proposito Di drammi C'è quello Delle industrie In particolare Adesso c'è Una situazione Molto difficile All'elettrodox A Breda Sono previsti Esuberi Vedo che anche Germania Insomma La miele Sono colossi Degli elettrodomestici Va malissimo E non è Non è solo Un problema Nostro Sì Va male Per stessa missione Dell'impresa Perché Le retribuzioni Redditi Dei cittadini Europei Sono calati E complessivamente Sono calati E calando I redditi In particolare Dei lavoratori Gli stessi Cittadini E lavoratori Europei Si rivolgono A fasce Di mercato E di prodotto Che costano meno E le fasce Di prodotto Che costano meno Non le produciamo Nel Diciamo Nell'Europa A quantomeno Dell'Ovest Ecco E quindi È un cane Che si morde la coda Si abbassa La capacità di reddito Si abbassano Le retribuzioni Si si rivolge A prodotti Che non vengono Prodotti qui Perché costano meno E quindi Si Involontariamente Si finanzia Il decadimento Della società In cui stiamo vivendo Io credo Io credo Che questo Sia evidente E Elettrus Paga Alla pari Della citazione Della marca tedesca Della miele A pari Della miele Paga Questo Diciamo Questo contesto E lo paga Chi Non è che lo paga La società Certo Probabilmente anche Qualcosa Gli azionisti Ma chi ci lavora Dentro delle imprese Perché prevedono I tagli E oltre i tagli Ovviamente Non aumentano I salari E questo è il punto Delicato In questi giorni Hanno annunciato 730 No Hanno annunciato 373 Esuberi Di cui Una grossa fetta Purtroppo A Porcia Che è lo stabilimento In maggior difficoltà Del gruppo Dal punto di vista Delle vendite Ma non è esclusa Neanche su Zegana Che ha 46 esuberi Grossa parte Sugli impiegati E la difficoltà Della trattativa Sta E del confronto Con l'azienda Sta su due punti Da un lato Che negli ultimi Tre anni Si ripetono Richieste di riduzione Di organico Due Per quanto riguarda I impiegati Di su Zegana Abbiamo fatto Un accordo A gennaio Dell'anno scorso Che per Una ventina Di unità Di impiegati Che neanche Abbiamo trovato Tutti Con gli incentivi Su base volontaria E chiuso L'accordo Con Un po' meno Di 20 uscite Ne chiedono Subito dopo Altre 30 Sendo che avevamo Già rischiato Il barile Passatemi il termine Per le uscite Del precedente Accordo Chiaramente Troviamo Difficile Che a parità Di condizioni Troviamo Ulteriori 30 volontari Che se ne vanno Rapidamente C'è da capire Anche l'impresa Che si trova Nella difficoltà Di vendito E se non vendi Non guadagni Se non guadagni Qualche difficoltà In più A mantenere L'impianto C'è Però La soluzione Che viene Adottata Di non Chiarire Quale Né chi sono Né come Proviamo ad affrontare Insieme Questo problema Come abbiamo Fatto in passato Dopo Per la verità Scontri Non da poco In quello stabilimento Ma L'abbiamo affrontato E Siamo ancora qui A raccontare Che c'è la possibilità Di proseguire Quando si trova Un muro Che ti Pongono Di volta in volta Tagli Ma non soluzioni Per chiudere O per provare A uscire Dalle difficoltà Ecco che è meglio Fermarsi Come è successo Grazie Soprattutto Ai lavoratori Di Porcia Che lì Avendo Ben più grossi Problemi numerici Di Susegano Hanno posto Le questioni E sono riusciti A trovare Diciamo Orecchi sensibili Da chi in questo momento Ha le responsabilità Ministeriali E contiamo Che il 22 Che aprono Questo tavolo Dell'elettrodomestico Arrivi una spinta A contribuire A superare Le grosse difficoltà Che il settore Sta vivendo In tutta Europa Soprattutto Chi è posizionato Sull'alto di mercato Sull'efficienza energetica E su tutti i temi Caldi E importanti Che riguarderebbero L'ambiente Ecco io Una battuta Se me la concede Questo Tentativo Di dire Che chi parla Di ambiente Ha un approccio Ideologico La trovo Una scemenza Tra le più grandi Che sento In questo ultimo periodo Per la semplice ragione Che quello Che sta accadendo Al clima Deve trovare Un'azione Generale Di risposta E almeno Iniziando qui Dall'Europa Dove queste attenzioni Dobbiamo averle Maggiori E soprattutto Nella nostra zona Altamente inquinata Che avrebbe bisogno Di cambi Altro che Del green Che stiamo ragionando Il green deal Ed è una brusca frenata Quella che hanno Registrato Gli artigiani Della CNA Degli investimenti In questa prima parte Del 2024 Secondo la CNA Il Veneto È entrato In una fase Di stallo Sentiamo Le nostre previsioni Per il 2024 Sono confermate Dal focus Dei 10 indicatori Abbiamo una crescita Del PIL Dello 0,7% È un arretramento Per quanto riguarda La crescita Dei consumi E degli investimenti Dopo un paio D'anni Di crescita impetuosa Nel 2024 Gli investimenti In Veneto Sono destinati Ad una brusca frenata Il primo focus Dell'anno Dell'osservatorio Economia e Territorio Di CNA Veneto Conferma Un'economia In stallo Banca d'Italia Punta il dito Contro le condizioni Più rigide Di accesso al credito L'esaurirsi Degli incentivi In edilizia Il rialzo Dei costi di finanziamento Ma c'è anche dell'altro L'inflazione è scesa Ma è cresciuta Negli ultimi due anni Del 14,4% Pesa sulle famiglie E pesa Sugli investimenti Delle imprese C'è un calo strutturale C'è un calo strutturale Del numero Delle imprese E soprattutto Delle imprese artigiane Che o si trasformano E crescono Oppure chiudono Per sopraggiunti Limiti di età E da questo punto di vista Dobbiamo lavorare Per far Incentivare L'imprenditoria Giovanile E la propensione All'imprenditorialità Negli ultimi quattro anni Il Veneto Ha perso Quasi 8300 imprese 4800 Solamente Tra le imprese artigiane In particolare Quelle legate Al manufatturiero E all'edilizia I problemi Per la nostra economia Comunque Arrivano anche Soprattutto Da oltre confine Dove i vari scenari Di crisi Hanno aperto Una situazione Di profonda incertezza Lo scenario internazionale Sta pesando In maniera importante La situazione Del canale di Suez Le crisi Della geopolitica Poi abbattono Anche sulle piccole E sulle micro imprese Ed è per questo Che va fatta un'azione Un colpo di reni Importante Per sostenere Il nostro Made in Italy E sostenere anche Una ricollocazione Del Veneto Sullo scenario internazionale Allora Il sindaco Il sindaco Di Isola Vicentina Fa più di 10.000 Abitanti Il paese Che lei Amministra Rispetto alle difficoltà Delle famiglie Noi spesso parliamo Con i servizi sociali Abbiamo la Mirella Tuzzato Che ogni mattina Con una sveglia Veneti Fa un monitoraggio Molto completo Dei più indigenti Insomma Dei più fragili Come siete messi lì? Diciamo che Isola Vicentina È un nome quasi Evocativo Perché Non ci possiamo lamentare Ci sono evidentemente Anche lì situazioni Di difficoltà Però La nostra È un territorio Che si divide Per il 50% Tra la pianura E il 50% La collina E grazie a Dio Abbiamo ancora Un bel numero Di aziende agricole Abbiamo aziende Anche Che producono Abbiamo una letteria sociale Riconosciuta Nel territorio E devo dire Che l'agricoltura Lì si difende E mi aggancio Proprio al tema Dell'agricoltura Perché Abbiamo cercato Io sono figlio D'agricoltori E la PAC L'ho vista Praticamente In casa Da tempo E abbiamo visto Come nel tempo La politica agricola Comunitaria Fosse più portata A sovvenzionare Magari Economie Che si sono avvicinate Successivamente All'economità europea Quindi tutto l'est Europa Ma sussidiando Possibilmente Quella italiana Perché O non reggeva i costi O invitando Il famoso set aside Cioè Mantenere in colto Parte dei terreni Italiani Questo Ha impoverito Naturalmente L'agricoltura italiana Ha poi prodotto Tutto il tema Delle quote latte Che abbiamo conosciuto Negli anni 90 E ora Stiamo fronteggiando Anche come agricoltura Sicuramente Un passaggio generazionale Non facile Ma che ha continuamente Bisogno di sostegno C'è stato un tempo In cui La politica comunitaria Dicevo Ha investito molto Nell'est Europa E qui i mercati Hanno saputo Sicuramente Mettere sul mercato Grandi quantità Anche di prodotti Caseari E questo A discapito Poi anche Della nostra agricoltura Che cosa è poi successo Che i nostri prodotti Sono diventati Meno competitivi Perché la grande Distribuzione Preferisce In virtù Anche E qua bisogna dircelo Dei nostri Abitudini di consumo Abbiamo perso La stagionalità Abbiamo perso La dieta mediterranea E quindi abbiamo Prodotti Stagionali Che arrivano Sui banchi Dei supermercati Tutto l'anno Dall'altra parte Del mondo E questo Ha spinto La grande distribuzione A offrire Prodotti Sempre più Economici E sempre Lavorando Sul prezzo A persone Che percepiscono Redditi Sempre più bassi Lo diceva Chi mi ha preceduto E quindi È un circolo Vizioso Che ormai Si sta Esaurendo E l'Italia Che è uno dei paesi Con la più grande Di biodiversità Al mondo E che ha la possibilità Di offrire Tutta la dieta Organolettica Che un corpo umano Possa pretendere Credo che Abbia da fare Di ragionamenti Anche Su tutto il tema Ad esempio Del green Sentivo prima Chi mi ha preceduto Che l'Europa Sembra quella Che ci insegna Che Dobbiamo essere green E quindi Sempre più Auto elettriche Ma non ci ricordiamo Che per ottenere 50 kg Di Elementi chimici Per Costruire Una batteria Di un'auto Dobbiamo Sviluppare Forza Anidride carbonica E smuovere Per 50 kg Più di 500 tonnellate Di terre Per ottenere Quelle terre rare Che poi ci fanno Ottenere Le batterie E questo succede Dell'altra parte Del mondo Dove sicuramente Magari Vengono mandate I nostri Mezzi Euro Zero O qualcosa Del genere Dove non ci sono diritti Per il lavoro Minorile Dove le donne Vengono sfruttate Dove l'inquinamento E sicuramente Si generano anche Quelle famose isole Di plastica Che poi Galleggiano Negli oceani Quindi io credo Dobbiamo essere Anche come Proprio In un'ottica Di globalizzazione Dal punto di vista Green Essere maggiormente Responsabili Perché forse A servizio Del nostro Pensare Di essere Green Pretendiamo Di sfruttare Al nostro Servizio Tecnologie Nuove Sicuramente Che vengono sviluppate Delle altre parti Del mondo Dove diritti E istituzioni Non fanno Il lavoro Che stiamo facendo Qui in Italia Quindi Credo che sia Responsabilità Nostra Anche il nostro Stile di consumo Quello che sta Succedendo Qua Naturalmente Stiamo parlando A tutto tondo Di un processo Che Si Bisognerebbe tornare Indietro Alle origini Quasi Dell'uomo Della globalizzazione Però Chiaramente Sono le scelte Quotidiane Che noi facciamo Nei nostri consumi Che poi Ci Portano A generare Determinate situazioni Anche quello Del green Non è sicuramente La soluzione E appena c'è Di tutti i mali Allora Adesso torniamo Da Raffaele Speranzon Però vorrei chiedere A Fabrizio Bazzoni Che è in regia Con Marco Gagliazzo Se possiamo dare Un altro Indice Di una situazione È complicata Che è quello Dei negozi Sfitti Nel centro storico Andiamo A Bassano Del Grappa Il servizio Di Sharon Sharon Di Carlo È anche un problema Di sicurezza Perché Il centro Si spopola E quindi I rischi Aumentano Vediamo Sentiamo Serrande abbassate O vetrine Dimenticate Uno ad uno Chiudono i negozi Nel centro storico Di Bassano Un effetto domino Che racconta oggi Una fotografia preoccupante Di una città Che perde dal suo cuore pulsante Sempre più attività commerciali Stiamo in via Giacomo Matteotti Nel cuore del centro storico Della città E in pochi metri Sono cinque negozi Che hanno chiuso l'attività Ma non solo In via Giacomo Matteotti Negozi chiusi In via Marinali Via Jacopo da Ponte Via Vittorelli E in tutte le zone Più frequentate Del centro città Purtroppo Molti proprietari Degli immobili Pretendono Dei canoni Di affitto Talmente alti Da non poter Rendere profittevole Un'attività economica Affitti cari Che spaventano Gli esercenti Attività che chiudono Si spostano Lontano dal centro La soluzione potrebbe essere Calmierare gli affitti Da parte delle amministrazioni comunali Ovviamente aiutare A calmierare gli affitti Quindi mettere in contatto La domanda Con l'offerta Investire molto di più Sul turismo Turismo abbiamo visto Fa la differenza Ma non è ancora Sufficiente per Garantire questo indotto Di persone Quindi dobbiamo Aumentare ancora di più Gli investimenti Calmierare gli affitti E puntare al turismo Chiedono questo I commercianti Per illuminare Il futuro centro storico Ma se parliamo di presente Il buio Sembra far da padrone Ogni negozio che chiude Abbiamo una luce in meno Che va a illuminare la città E quindi Più buio Meno segnale di sicurezza Perché non possiamo dire Che Bassano Non sia sicura Però l'impatto visivo È comunque spiacevole Questo non lo possiamo nascondere Servizio di Sharon Di Carlo Sedatore Speranzone Ora andiamo Abbiamo parlato Di europeo Ci sono ovviamente Le regionali Abbiamo intervistato Molte volte Qui a Focus E anche a Ring Luca De Carlo Che è considerato Uno dei papabili Per la presidenza Della regione Del veretto Manca ancora Del tempo E soprattutto Non si sa Se il presidente Zaia Potrà fare Un altro mandato In quel caso Voi La date Diciamo Per 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 affidata Nuovamente Alla Lega La presidenza Nel caso Intendo che Zaia Si potesse Ricandidare Allora Innanzitutto Mancano due anni E forse anche Più di due anni Perché se Come immagino Ci dovesse essere Una piccola Proroga Legata al fatto Che le scorse elezioni Si sono tenuti Irritualmente In novembre Con conseguente Campagne elettorali In piena estate Quindi Se dovesse essere così Mancano più di due anni E quindi È un tema Che capisco Che possa essere interessante Dal punto di vista giornalistico Più che altro Rispetto al futuro Di Zaia Però Insomma Noi in questo momento Stiamo pensando Alle prossime elezioni Quelle più vicine Che sono le amministrative In tantissimi comuni Al Veneto E le elezioni europee Poi è chiaro Dopo le elezioni europee Si tireranno anche un po' Le somme Rispetto ai pesi E contrapesi Delle varie forze politiche Nei vari territori A livello nazionale Perché è anche legittimo Che Così come In passato C'è stato un momento Nel quale Forza Italia Aveva All'interno del centrodestra La forza politica Che raccoglieva Il maggior numero di consensi E quindi aveva Conseguentemente Anche il maggior numero Di rappresentanti Tra sindaci E governatori Poi c'è stato il periodo In cui è stata la Lega A avere Il maggior numero di consensi Se dovesse essere Confermata Anche alle elezioni europee Quello che è stato Il trend Delle elezioni politiche Con Fratelli d'Italia E con Fratelli d'Italia Prima forza politica Il centrodestra È chiaro Che metteremo A disposizione Quella che è la nostra Classe dirigente Che è una classe dirigente Fatta di persone Che hanno grandissima esperienza Dal punto di vista Amministrativo E quindi Credo che potremo Ben governare La regione del Veneto Ma questo è un tema Che non riguarda L'attualità Quelli che riguardano L'attualità Sono quelli che hanno Affrontato giustamente I suoi ospiti E io vorrei precisare Il fatto che Non sono affatto Contro il green Inteso come La difesa Delle ecologie Dell'ambiente Ci mancherebbe Sono contro Quell'approccio Dogmatico Ideologico Non pragmatico Che È pronto A sacrificare Gli interessi Dell'uomo Che è pronto A sacrificare Gli interessi Della produttività Della sostenibilità Sociale In nome Di un'ideologia Dogmatico Assoluto Dove Addirittura Si arriva a pensare Che questo pianeta Starebbe meglio Se non ci fosse L'uomo Ecco perché Ci sono anche Estremismi Di questa natura Noi riteniamo Che ad esempio Per quanto riguarda L'agricoltura L'agricoltore Sia il miglior amico Dell'ambiente E quindi Tutelare l'agricoltore Attraverso la tutela Dell'agricoltore Si tutelano Automaticamente Anche I campi L'ambiente La possibilità Che vengano irrigati Non vengano Lasciati All'incuria Che poi Produce Spesso e volentieri Quando vediamo Che ci sono Avvenimenti Catastrofici Come certe Alluvioni Determinate anche Dalle Alle acque Di tornare In falda Detto Questo Altre due parole Velocissime Rispetto alle riforme Si è parlato Di premierato Un suo ospite Ha detto che Vogliamo dare Più poteri Al presidente Del consiglio I ministri Nessuno vuole dare Più poteri Noi vogliamo Semplicemente Mettere in condizione L'Italia Di crescere E per crescere L'Italia deve essere Riformata E perché si possano Fare le riforme Bisogna cominciare A pensare A un'architettura È lo Stato Che consenta Di dare stabilità Ai governi La stabilità È sempre stato Un problema Per l'Italia Abbiamo avuto Un numero di governi Quasi superiore Al numero di anni In questa Repubblica E non ce lo possiamo Permettere Perché è evidente Che quando ci sono governi Che hanno una durata Nella legislatura Cortissima Inevitabilmente Da un lato Non saranno in grado Ovviamente Di fare alcun tipo Di riforma Perché non ce n'è il tempo Dall'altro Addirittura Peggio Saranno tentati Di fare politiche A breve Veraggio Miopi Che hanno come obiettivo Solo quello Del conquista Del consenso Perché nel giro Di pochi mesi Magari ci si approssima All'elezione Alle urne E quindi politiche Che invece di essere Espansive dal punto di vista Della crescita Molto spesso Hanno prodotto Soltanto un aumento Del debito Per permettere Di far vedere Risultati immediati Ma sostanzialmente Effimere Quella del Premierato È una riforma Che ha come obiettivo Quella Di ridare la sovranità Al popolo Cioè mettere in condizione I cittadini Di scegliere Da chi farsi governare Niente di meno Pensate Quanto è antidemocratica Quello che succede Attualmente In qualsiasi comune D'Italia Grande o piccolo Che sia E in qualsiasi regione Di modello Che funziona Anche a livello nazionale Per quanto riguarda E chiudo Per quanto riguarda Questa scritta Che vedo qua sotto 2298 giorni Da referendum Ecco allora Voglio dire Che sicuramente Per 1800 giorni Non si è fatto nulla Ma da quando Cioè da circa 500 giorni Da quando c'è Fratelli d'Italia Al governo È stata già votata Al Senato Con grande soddisfazione La legge Quadro Sull'autonomia E quindi Rivendichiamo il fatto Che qualcuno Per anni Ha detto Che se Ci fosse stata Fratelli d'Italia Mai e poi mai Sarebbe arrivata L'autonomia Si scopre Che è solo Grazie al fatto Che è arrivata Fratelli d'Italia Che finalmente Si realizza L'autonomia E questo credo Che sia Per i veneti Che hanno votato Al 70% A favore di quel referendum Sia una bellissima notizia E tra l'altro Si ricordo Che Giorgia Meloni In una conferenza Stampa Fiume Si era espressa Molto favorevolmente All'autonomia Ha detto No è responsabilizzazione Non sottrae poteri Ad altre regioni Per cui È vero C'è stata A un certo punto Una Una svolta E adesso Giovedì Ci sarà Come relatore Alla Camera Il segretario regionale Alberto Stefani Che è presidente Della commissione Affari costituzionali Andiamo Dobbiamo andare in pubblicità Poi riprendiamo Vi saluto Direttore Può restare ancora Sperazzo Va bene No se può Altre dieci minuti No va bene Va bene Altre dieci minuti In pubblicità Poi riprendiamo Con Giorgio Denardi Augusto Imbreda Poi torniamo anche Dal sindaco Di Conegliano Fabio Chiesa Tra poco Grazie 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 Ci sono già I giochi Fatti nel centro-sinistra Abbassano Le grappe In vista delle Amministrative Parliamo del centro-sinistra Il candidato sindaco Sarà L'ex vice sindaco Ai tempi di Riccardo Poletto Sindaco Roberto Campagnolo Sentiamo Le ultime Notizie Da Alex Iuliano Fratelli Coltelli Carroccio Impantanato Insomma Quanto insanabile Sarebbe la crisi Pre-elettorale Nel centro-destra Formato da Fratelli d'Italia E dalla Lega Alberto Stefani Segretario Regionale Del Carroccio Ha aperto Alla corsa Solitaria Per le provinciali E per ora Fermiamoci qui Perché per le comunali La frattura Con gli alleati Meloniani Potrebbe ricomporsi Anzi Sarebbe Forse Meno profonda Di quanto appara All'esterno Ma per Bassano Cosa vorrebbe dire Avere un candidato Lega E uno Di Fratelli d'Italia Senza dubbio Correndo separati Si avrebbe Sulla carta Meno peso In termini di numeri E di prospettiva Di evitare il ballottaggio Da casa Fratelli d'Italia Filtra però La volontà Di trovare Un accordo E di proseguire insieme Ma il problema Allora Dov'è? Tutto Sembra ruotare Attorno a Elena Pavan L'attuale sindaca Non godrebbe Infatti Più del sostegno Del suo partito E i Meloniani Aspettano che La Lega Metta un punto O una virgola Alla questione Di certo Una parte Del carroccio Bassanese Vuole presentarsi In solitaria Ma si sa Alla fine Certe decisioni Vengono prese Dall'alto Quindi Nicola Finco E Germano Racchella Restano in corsa Proprio come Stefano Giunta E Andrea Zonta Che pare In leggero vantaggio Quando si saprà Come andrà a finire? Quando qualcuno Si prenderà la briga Di decidere Il futuro Di Elena Pavan E di comunicarglielo Intanto la sindaca Starebbe lavorando A una civica Per non restare appiedata Altri movimenti Dell'ultima ora Vedono nascere Un dialogo Fra Morena Martini E Roberto Campagnolo Come si suol dire Se sono rose Fioriranno E forza Italia Anche in questo caso Si dialoga Al centro E a destra Per un'alleanza O per qualcosa di più Suizio di Alex Giuliano Dottor Denardi Diceva Senatore Speranzonna Che È contrario Fratelli d'Italia È contrario A uno schema Ideologico Dogmatico Sulla Sulla difesa Dell'ambiente Ma non è un fatto di dogmatismo O ci crediamo O ci rendiamo conto Che l'ambiente Sta diventando Un problema Enorme E se no Di che cosa stiamo parlando Si parlava prima Del discorso Degli agricoltori Gli agricoltori Come tutte le altre categorie Non è che siano Migliori o peggiori Ci sono gli agricoltori Che coltivano E fanno Le loro coltivazioni Bio Stanno attenti A tutta una serie Di elementi Che possono determinare Una Una produzione sana Anziché no E altri che usano Gli elicotteri Per distribuire Pioggia Anticritogamici Pesticidi E di tutto Per cui Non si può neanche Uscire di casa Quando Vengono fatte Queste distribuzioni Di prodotti chimici Perché Arriva praticamente Una pioggia distruttiva Di veleni Sui nostri territori Per cui Va distinto C'è chi produce Bio E riesce a vendere Il proprio prodotto A un prezzo più alto Lo esporta All'estero Viene premiato Molto di più Un prodotto biologico Piuttosto che no In Italia Purtroppo Siamo ancora un po' indietro Da questo punto di vista Per cui Se un prosecco Costa mezz'euro In meno Ma non è bio Costa mezz'euro In meno Quindi compro Quello che costa meno Spesso succede Anche per i noti motivi Che abbiamo visto Di problemi economici Di disponibilità economica Ma se non Premiamo Le produzioni Migliori Più sane Noi rimarremo Sempre ostaggio E ricattabile Da questo Modalità Di Andare a ribasso Su una produzione Sempre più economica Sempre più a basso costo Anche se è Impestata Di Chimica E di cose Che consentono Un'altissima produzione La produttività Però portano A un prodotto Molto più scarso Più pericoloso Per la salute Più pericoloso Per l'ambiente Per gli abitanti Per i residenti Queste sono scelte Strategiche Non è Ideologia O Vogliamo Poter portare I nostri bambini In città Senza avere lo scarico Delle auto Che ci impesta I polmoni Oppure no Preferiamo avere le macchine Che ci inquinano Le città O preferiamo avere un ambiente Dove possiamo Fare una passeggiata Sereni e tranquilli Vogliamo mangiare Dei prodotti sani O vogliamo mangiare Dei prodotti Che sono velenosi Sono delle scelte Che poi in Cina Per costruire le batterie Succedono certe cose Per carità Anche Fa parte Purtroppo Delle strutture del mercato Però È inutile che parliamo Adesso di robe Che succedono in Cina Stiamo parlando Di qualcosa Che è sotto La nostra possibilità Di controllo Allora Noi oggi Possiamo decidere Se consentire o no Di distribuire Con gli elicotteri Anticritogamici Pesticide Tutto quanto Sopra le nostre case Non possiamo certo Fermare la Cina Per quello che succede In Cina Però possiamo competere Con la Cina E ora Se noi non ci mettiamo Finalmente A investire Sulle nuove tecnologie Sulla transizione green Sulla transizione digitale Noi rimarremo sempre Più deboli E schiavi Rispetto a chi Usa In modo forte Queste nuove tendenze Quindi Resteremo a difendere I motori Endotermici Che ormai Sono destinati A andare fuori Produzione Perché pensiamo Che la batteria Sia poco green E allora signori La tecnologia Va avanti La tecnologia Va avanti È come difendere Le carrozze a cavallo Quando sono arrivate Le prime automobili Ma è molto poco green Il progresso Va avanti Allora vogliamo essere Davanti O vogliamo essere dietro Se vogliamo essere dietro Rimarremo sempre più poveri E ci troveremo Qui a discutere Delle aziende Che chiudono Del lavoro Che si perde E che si Dequalifica Sempre di più Perché i lavori A valore aggiunto Superiore Sono all'estero Quindi i nostri giovani laureati Se ne vanno all'estero In Cina Stanno aumentando Il flusso di migrazione Verso l'estero Di giovani laureati Che è enorme Quindi ci entra Mano d'opera Di livello più basso E ci esce Mano d'opera Di altissimo livello Perché Ma non c'entra niente Perché non ci sono politiche Inoltre Non ci sono politiche Di sviluppo economico Viene difeso Una produzione Che ormai Resterà solo Per La parte più bassa Del mercato Ci perdiamo Il valore Che abbiamo In questo paese Che è straordinario Che ha delle Particolarità incredibili E non le valorizziamo Abbastanza E questo E' lì che dobbiamo Creare valore e ricchezza Non pensare Di usare La chimica Per difendere Una produzione Che è destinata a morire Sentiamo Sentiamo Cre E poi Anche Ma no Ma parto Da quest'ultima Considerazione Di De Nardi Se parliamo Delle 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 Peculiarità italiane Sfondo una porta aperta Con 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 fratelli d'Italia Abbiamo creato Il ministero del Made in Italy Figuriamoci E' proprio quello Che noi diciamo Il problema Di cui parlava L'amico Speranzone Il sindaco Di Isola Vicentina Relativamente All'approccio ideologico Green Non è quello Di salvaguardare Il nostro pianeta Il nostro territorio Su questo Siamo tutti d'accordo L'approccio ideologico E' come arrivarci A questo Perché Se arrivare A questo Significa La transizione La transizione Green Che comporta La necessità Di eliminare Tutti Parlava prima Tutti I 360 gradi Di valutazione Denardi Di eliminare I cosiddetti Motori endotermici Motori a scoppio Per Trasformare Tutto In elettrico E' esattamente Questo il problema Perché la produzione Dell'elettrico E' ciò Che inquina Molto di più Innanzitutto Che distrugge Risorse naturali Perché Per andare A recuperare Le quantità Le quantità di litio Si distruggono Risorse naturali E questo E' il primo punto In secondo luogo Per eliminare Quello che è Il 9,8% Dell'inquinamento Dell'Europa Si costringe La riconversione Con la produzione Di motori elettrici Proprio verso la Cina Che inquina Già Oltre il 30% Di 30% Inquinamento Mondiale E che per Produrre Quei motori Elettrici Di cui noi Dovremmo Usufruire Per ridurre Il 9,8% Dell'inquinamento Mondiale Inquinano ancora Di più Perché producono Attraverso Industrie a carbone Quindi E' questo Il problema L'approccio ideologico E Il Il sistema Attraverso Cui Arrivare Al green Il sistema Attraverso Cui Arrivare Al green Con questo Percorso E' paradossalmente Invece La produzione Maggiore Di inquinamento Proprio da quel Paese Cioè la Cina Che ci massacra Non soltanto Dal punto di vista Inquinamento Ma anche dal punto di vista Economico Allora vediamo La protesta Ad Adria Contro le Trivelle Di qualche giorno Di giorno fa Da Rovigo In diretta Vediamo La città di Adria È diventato Il paico scenico Di una vibrante Protesta Contro le Trivelle Nell'Alto Adriatico Uniti Contro la Minaccia Ambientale L'intera Comunità Si è schierata Associazioni Ambientalistiche Oltre 20 Sindaci Rappresentanti Di tutto il Polesine Consiglieri Regionali E' l'assessore E' l'assessore E' l'assessore Al territorio Cultura e Sicurezza Della regione Veneto Cristiano Corazzari Questa manifestazione Trasversale Promossa Del sindaco Di Adria Massimo Barguiani Ha ribadito Con forza L'opposizione Al progetto Autorizzato Dal governo Meloni La partecipazione Di associazioni Ambientalistiche Sindaci E rappresentanti Regionali Dimostra L'ampienza Della preoccupazione E l'unità Di intenti Nella difesa Dell'ambiente Ecco Anche questo Insomma Dimostra Che c'è Tensione Anche sul fronte Dell'ambiente In questo caso Della subsidenza Breda Poi Sì Allora Intanto Mi permetto Di dire Di fare una battuta Quando si parla Di dati Bisogna sempre stare attenti È vero Che la Cina È il paese Che inquina di più Il secondo E gli Stati Uniti Ma La Cina È il triplo Di popolazione O quasi il quadrupo Degli Stati Uniti È la dimensione Territoriale Che è Imparagonabile Quindi Se è proporzionata Sua popolazione La Cina È una di quelle Che inquina meno In Europa I paesi Che inquina di più Sono i paesi Dell'est Per Un Recupero Di Diciamo così Di arretratezza Che in parte Hanno già fatto Ma il primo paese Che inquina di più Che non è Dell'est È l'Italia Allora Io dico Che se fossero veri Questi dati Che sono dati Dall'Unione Europea Ma sono dati Riconosciuti Da tutti Bisognerebbe Ragionare Su come si può Recuperare Il pezzo perso Perché Perché l'Italia È uno Dei paesi Più industrializzati Del mondo Sta Tra i primi dieci Sicuramente Fa parte Del G7 Ed ha Una responsabilità Di guida Anche su questi temi Non è solo Una questione Diciamo così Che c'è chi sta peggio Chi fa peggio Però Avendo responsabilità Di maggiori È bene E avere anche Un atteggiamento Che è conseguente Su questo Per quanto riguarda I dati Abbiamo poco tempo Prego Sì sì Ma per la battuta Conclusiva Su quanto Stiamo vivendo Io insisto Che noi Che tutti quelli Che hanno responsabilità In questo momento Dovrebbero Avere Molta più attenzione Alle difficoltà Della fasce Anche di chi lavora Delle fasce Di dipendenti Di lavoratori Di precari Che abbiamo Perché Il problema Dei redditi Utili A vivere È ed è enorme E Ultimissima battuta La vicenda Della Liberalizzazione Del gas E dell'elettricità Che non è partita Con questo governo Tanto per essere chiari Però Che ha trovato L'accelerazione In questi mesi Vedo Le bollette Dei nuovi contratti Hanno quasi Raddoppiato I prezzi A persone Che già Non ce la fanno Abbiamo Problemi Enormi Che vanno affrontati Per evitare I tanti Come si chiama Quello lì Che taglia I flexi Flexi Tanti flexi Perché ormai La reazione È più Individuale Che collettiva Nelle relazioni Negative Ed è più difficile Anche da controllare Sindaco Le risultate Che siano Raddoppiate Le bollette Con il cambio Dei gestori Ci stiamo ancora Allineando Bisogna capire Come funzionerà Il sistema libero Ci sono delle situazioni In cui ci sono Delle storture E ci sono degli aumenti Ci sono altre situazioni In cui Questo anche perché Arriviamo da una situazione Di due anni ultimi In cui è stata Veramente dura Cioè il problema È veramente Un problema economico Che va a toccare Le fasce più deboli Abbiamo una fascia Sempre più estesa Di persone che si trovano In difficoltà Io volevo fare una battuta Però a Breda Come lui ne ha fatto una prima Anche perché ci piace Può scherzare su alcune cose Non è che chi parla Di ecologia Venga indicato Come una persona Politicizzata Il problema è vero Chi è politicizzato Vuole intestarsi Alcune battaglie ecologiste Ecco io penso Questo sia sbagliato Cioè penso Che quando si parli Di ecologia Di verde e di green E di cose importanti Non bisogna mai più Parlare di politica Bisogna parlare Di politica A livello nazionale E qui Prendere E fare in modo Che diventino Battaglie Ideologiche È sbagliato sempre Da una parte Anche dall'altra Penso che su questo Siamo un po' tutti d'accordo Uno stato serio Ma l'ho detto più volte I sistemi importanti Deve tracciare la linea Uno stato come l'Italia Deve andare in Europa E tracciare la linea Sulle tematiche più importanti Invece noi ci troviamo Come sempre A discutere tra di noi Cosa sono cose belle Cosa sono cose brutte E poi ci troviamo in coda Rispetto ad altri stati Che invece fanno sistema Su questo E questo è inaccettabile Perché l'Italia È un grande paese È un paese Che ha tutte le risorse Tutte le capacità Per essere leader europeo Ma qui ci troviamo molte volte Che quando andiamo in Europa E spero che qualcuno di noi Magari prima o dopo Ci arrivi all'Europarlamento Magari anche qualcuno Sotto qua vicino Si possa anche portare Le istanze di un territorio Che non sarà più Un territorio diviso Ma su alcune battaglie Deve essere un territorio Che parla la stessa linea Grazie Grazie a tutti Adesso sentiamo Per ultimo ancora Se la tua Speranzone C'è una notizia Una buona notizia Almeno potrebbe sembrare buona Sidi Hamas Sul rilascio Degli ostaggi I fonti di Israele Dicono no Chiedono l'impossibile Biden dice Ci ragioniamo New York Times 32 dei prigionieri A Gaza Sono morti Insomma Una buona notizia Per modo Per modo di dire Sembra che ci sia Un po' di Rilasciano Ci si apra uno spiraglio Nel rilascio Degli ostaggi Senatore Prego Rispetto a quest'ultima notizia Speriamo Quanto ci sono spiragli Di dialogo Si intravede la luce Anche perché sappiamo Che tutto quello Che succede Al di fuori I nostri confini Ha delle ripercussioni A casa nostra Enormi Cioè Quelli che sono dati Per esempio Riferibili All'inflazione All'aumento dell'inflazione Di questi anni Non è per Questioni Per scelte Per sbagliate O giuste Del governo Italiano O di altri governi Che hanno subito La crescita Spaventosa Dell'inflazione In questi anni Ma è per L'instabilità Che si è generata Con i conflitti In particolare Quello In Ucraina Con l'invasione Da parte della Federazione Russa E poi adesso Anche con quello Che sta succedendo Nel Medio Oriente Per cui tutto quello Tutti i focolai Di instabilità A livello planetario Generano purtroppo Riflessi negativi Che poi Costringono A politiche Che noi Non condividiamo Da parte Della Banca Centrale Europea Ad esempio Di aumentare Continuamente I tassi Adesso si sono interrotti Speriamo che comincino Velocemente Ad abbassarli Creando poi Una serie di problemi Legati Alla possibilità Da parte delle aziende Di fare investimenti Perché chiaramente Di fronte A tassi così alti Diventa difficile Non solo pagare I mutui Per le famiglie Ma anche pensare Di Accenderne Per le imprese Con conseguenze Poi gravissime Dal punto di vista Anche Della capacità Della nostra produzione Di efficientarsi Attraverso Poi c'è una cosa Però da dire Perché prima Ogni tanto Vedo qualche messaggio Che arriva Rispetto al fatto Che questo governo Non è stato in grado Di dare risposte Ha fatto soltanto spot E allora Ogni giorno Poi Chi Usa questa narrazione Per descrivere L'operato di questo governo Viene smentito Dai fatti Perché Oggi Quelli che per anni Hanno detto Che il centrodestra Amichetto Degli evasori Che fa le politiche A favore Di chi vuole evadere Che cerca di fare Le scorciatoie Per i furbetti Eccetera Scopre Che grazie a questo governo Nel corso del 2023 Si è raggiunto Il record Nel gettito E nelle entrate Tributarie Con un più 22% Rispetto al 2022 E questo È un record Assoluto Rispetto alla storia D'Italia Non so adesso Repubblica La Stampa E tutti quei giornali Che dicevano Che insistevano In dire che questo governo Era amico degli evasori Cosa possono dire Così non so cosa Possono continuare a dire Quando continua A crescere l'occupazione Ed è un dato obiettivo Quell'occupazione Che cresce È per la stragrande maggioranza Stabile Con contratti Full time E a tempo indeterminato Lo spread Che doveva Essere sparato Alle stelle In questi giorni È stabilmente Sotto i 160 I 160 punti base La borsa Ha raggiunto Nel corso Dell'anno scorso Il più alto Rendimento Di tutte le borse europee E potrei continuare A elencare Fatti Fatti Non Non solo Solo propaganda Ma fatti È chiaro Che l'obiettivo Che ci poniamo È di riformare Lo Stato Oggi Abbiamo cominciato La discussione Sulla riforma E la giustizia Faremo la riforma E la giustizia Faremo la riforma Il fisco La riforma Dell'autonomia La riforma Del premierato Sono tutte Quelle riforme Che permetteranno All'Italia Di essere al passo Degli altri paesi D'Europa E poi magari Una volta fatte Le elezioni europee Magari anche Alla guida Delle scelte politiche Dell'Europa Del futuro Che speriamo Che possa essere Meno piope E più lungimirante Di quella Che ci ha preceduto Grazie Grazie senatore Grazie a presto E buon lavoro Arrivederci Grazie a voi Grazie molto Per essere stato Con noi a Focus Saluto il sindaco D'Isola Vicentina Francesco Gonzo Sindaco Grazie A presto E l'aspettiamo Di nuovo Qui in studio Bruno Agostè Breda Della RSU Electrolux Grazie Breda Buonasera a tutti Grazie molte Giorgio Denardi Lista Denardi Grazie dottore Buonasera A presto L'avvocato Fabio Crea Per Fratelli d'Italia Grazie avvocato Il sindaco di Conegliano Fabio Chiesi Grazie Buonanotte a tutti Grazie E Laura Besio Che è assessore Al comune di Venezia Per le politiche educative E anche altre deleghe Ed è coordinatrice Provinciale Di Coraggio Italia Grazie Buonasera Grazie molte Assessore Fabrizio Bazzoni In regia Con Marco Gagliazzo Ci vediamo domani Con i nervi Non con i nervi A fuori di pelle Ma con Focus TG A mezzogiorno Grazie molte Arrivederci Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.